E riprendiamo con gli argomenti del pomeriggio che trattano, se lo trovo, la contrattualistica per gli artisti. Quindi anche voi che siete degli artisti più della pubblicità dovreste anche interessarvi a breve, appena terminata la scuola, come essere poi assunti nel settore artistico. Ripasso la parola a Vincenzo Cipriano. Grazie. Buonasera a tutti. Un contratto. Che cos'è un contratto? È un accordo. Voi vi mettete d'accordo con qualcun altro su che cosa dovete fare. E scrivete in un foglio, perché potrebbe essere anche un accordo verbale. Definite cosa deve fare uno e cosa deve fare l'altro, semplicemente. Io faccio un lavoro di allestimento di una vetrina. Non lo pongo più su una questione, come dire, di scenografia, visto che ho capito che studiate questo tipo di cose. E tu, a fronte di questo lavoro, che deve durare massimo cinque giorni, che significa allestire cinque vetrine di un negozio, o di uno studio televisivo, semplicemente, oppure allestire una messa in scena per fare un video. A fronte di questo lavoro mi dai questo compenso, o lo fai a titolo anche gratuito, perché un contratto potrebbe prevedere anche la prestazione gratuitamente, in questi tempi, in questi modi e con questa formula. Quindi, praticamente, un accordo, che potrebbe essere anche verbale, perché non c'è scritto da nessuna parte che i contratti debbano essere scritti, vengono scritti e poi sottoscritti, quindi firmati da entrambi le parti, semplicemente per garanzia da parte di ognuno che l'altro faccia il suo pezzo di lavoro. Quindi io e te facciamo un accordo in cui ci diciamo, vieni domani al chismet, scusate se io parlo con le persone che c'ho davanti, li prendo come esche, faccio un accordo con te e ti dico, la settimana prossima vieni al chismet, due giorni, mi devi dare una mano a fare l'arrestimento del nuovo spettacolo. Ce lo siamo detti a voce, tu mi rispondi, ok, dammi 50 euro al giorno più rimborso della benzina. E' un accordo verbale. Alcune volte, mi posso garantire, che capita per mancanza di tempo o anche per affrontare un'emergenza, perché magari il mio tecnico, il mio scenografo si è ammalato, ha avuto un incidente, di chiamare al volo qualche altro professionista. Quindi magari l'accordo è verbale, fatto per telefono. Almeno adesso, che siamo in un'era, come dire, più tecnologicamente, più avanzata, si chiede, quando succede una cosa del genere, mandami almeno una mail. Così io ti scrivo di che cosa ho bisogno e tu mi rispondi e mi dai l'ok. Però quello di scriverlo è semplicemente una cosa in più che serve avere garanzie da parte di entrambi le persone che poi sottoscrivono il contratto, che le cose che uno ti chiede vengano fatte, che il compenso che tu hai chiesto venga poi dato. Di solito, minimo, il contratto deve essere fatto in due copie, perché uno deve rimanere a me e uno deve rimanere a te. E deve essere firmato da entrambi le parti, che con la firma dichiarano esattamente di accettare tutto quello che è scritto nel contratto. Quindi vi consiglio di leggerlo, perché vi posso assicurare che non li legge nessuno. Alcune volte neanche chi li scrive, perché quando tu fai un modulo, rimane quel modulo magari per anni, e chi lo sottoscrive, che di solito è legale rappresentante o un suo delegato, magari non sa neanche che cosa ha firmato. Ora, quindi, prima regola, ok l'accordo può essere verbale, però fatelo verbale soltanto quando c'è un rapporto di estrema fiducia. Quindi magari ci sono già dei pregressi, nel senso che avete già lavorato con quelle persone, sapete che vi potete fidare, e quindi potrebbe succedere che l'accordo non si riesca a scriverlo per tanti motivi. Fatelo soltanto quando c'è un rapporto di fiducia estrema. Seconda regola, se non li conoscete lo dovete fare scritto, ve lo dovete leggere, e fare gli autodidatti, andare a vedere, se c'è citato qualche articolo, di qualche codice, del codice civile, dovete andare a vedere che cosa dice. È scritto in italiano, può essere anche, come dire, non chiarissimo, ma perlomeno vi dovreste chiarire un po' le idee, perché poi è vero che tutto può essere, come dire, scambiato, modificato, può essere analizzato in modo diverso, però l'italiano è uno solo. Quindi leggetelo, studiatelo, e firmatelo. È chiaro che la prima volta ci metterete un'ora, la seconda volta mezz'ora, la terza volta sarà più facile, però se non lo fate mai, vi prendete la responsabilità di non averlo fatto. Terza regola, dopo averlo sottoscritto, una copia, dove c'è la sua firma, del contraente, deve essere in mano vostra, perché altrimenti voi non avete nulla in mano, potete aver scritto qualsiasi cosa, ma non avete nulla con cui dimostrarlo. Se non fate questo, potete non fare nessun accordo. Cioè, come aver fatto un accordo verbale. Non avere la copia del contratto che è firmato da voi e dall'altro, significa non aver fatto nessun accordo e non avere nessuna prova per dimostrare a qualcuno che gli accordi erano quelli presi e quindi erano stati entrambi d'accordo su questa cosa qui. Sono regole banali, ma sono fondamentali. Questo vale sia in un rapporto professionale di tipo di impresa, quindi un'impresa fa un servizio per un'altra impresa, un'agenzia pubblicitaria fa una campagna promozionale per il Kismet, quindi è la società che emette una fattura a fronte di un contratto, di un accordo fatto, sia a fronte magari di una persona che è un libero professionista oppure un dipendente che sottoscrive un contratto con un datore di lavoro. La logica è sempre la stessa. Quello che cambia è la metodologia. Che significa? Se un'impresa di pubblicità fa un accordo con il Kismet, il Kismet tiene conto soltanto che il lavoro venga fatto, non va a guardare tutto il resto. Non gli interessa sapere se i lavoratori sono, come dire, regolarmente assunti o meno, anche se la legge ti dichiara corresponsabile nel caso in cui nella tua impresa viene qualcuno che magari lavora a nero e io non l'ho controllato. Però quello che mi interessa dal punto di vista imprenditoriale è che il lavoro venga fatto così come io l'ho chiesto. Dall'altra parte, che cosa gli interessa sapere? Che nel momento in cui l'ho finito vengono rispettati i termini di pagamento e non solo, anche le modalità di pagamento. Quindi, come mi paghi? Con fattura? Ok, quanto mi dai? Mi dai un acconto? Ok, su quale codice IBAN? Il codice IBAN è il codice di riconoscimento di un conto corrente. Ed è come il codice fiscale. Praticamente ce l'avete voi, soltanto voi e quel codice IBAN corrisponde al vostro conto corrente e i soldi arriveranno soltanto su quel conto. Tempi. Su un contratto c'è scritto che tu devi avere un acconto prima dell'inizio del lavoro e un saldo a 30 giorni. Sappiate che ormai è diventato tutto virtuale, quasi nessuno rispetta i termini contrattuali, infatti in ogni contratto poi lo leggeremo, c'è scritto qual è il foro competente. Sapete che cos'è un foro? Il tribunale. Se io devo andare in tribunale e fare causa a lui perché non mi ha pagato o lui deve fare causa a me perché non gli ho dato il lavoro per cui che mi ha richiesto, posso rivolgermi al foro che è previsto in contratto. Quindi, vi consiglio di essere sempre voi quelli a scrivere i contratti perché sapete esattamente cosa avete messo e cosa no ed è chiaro che ve lo metterete a vantaggio vostro. Quindi, se voi dovete ipotizzare un periodo di pagamento sapete che forse 30 giorni sono pochi metterete 60. È chiaro che se lo facesse lui metterebbe un giorno perché ha interesse ad avere i soldi prima. Quindi, chi scrive il contratto sicuramente ha un potere decisionale rispetto all'altro che lo riceve perché l'altro che lo riceve magari non ti va a dire punto per punto cambiami tutto. Trova soltanto alcune cose che proprio non gli stanno bene. è sempre formulato insieme nel senso che a meno che non ci sia un rapporto come dire continuativo in cui io e te sappiamo già più o meno le basi dell'accordo e quindi è raro che io ti mando un contratto già firmato da me in cui tu devi solo sottoscriverlo e inviarmelo di solito si manda una bozza tu la verifichi mi dai l'ok oppure mi dici guarda va tutto bene cambiami questa cosa io ti do la mia volta l'ok e poi te lo sottoscrivo tu lo ricevi e me lo rimandi sottoscritto altrimenti non ha valore se non ci sono le firme di entrambi perché io dico che mi sta bene ma tu non me lo stai dando quel ok quindi sempre è così il contratto deve essere sempre condiviso poi c'è anche quello che lo riceve e lo firma ma vi faccio un esempio banale quante volte vengono sottoscritti dei contratti di utenze telefoniche e uno non legge tutto o dei contratti di polizia assicurativa e uno non legge tutto la logica è sempre la stessa noi per pigrizia non leggiamo esattamente tutto quello che c'è scritto e poi scopri delle cose che magari non sospettavi neanche è chiaro che quello con l'utenza telefonica o con una compagnia di assicurazione è diverso dal rapporto che ci può essere tra due imprese o tra un dipendente un libero professionista e un'impresa perché comunque è un rapporto anche umano nel senso che se io e lui abbiamo fatto un contratto e lui non lo rispetto o io non lo rispetto probabilmente uno dei due dirà questa è l'ultima volta che lavoriamo insieme a meno che io non lo chiami e lo avvisi perché è la cosa che capita spessissimo in questo periodo in cui quando dicono il momento di crisi internazionale fondamentalmente significa che i soldi sono pochi e che tutti tendono a far pesare questa cosa sull'altro quindi io faccio fare un lavoro a lui avendo pure la coscienza di sapere che non lo pagherò mai come ho scritto nel contratto poi c'è qualcuno invece più corretto che ti dice guarda piuttosto che 30 scrivimi 60 perché magari ce la faccio e soprattutto lo avviso se c'è un problema perché è quello che di solito non si fa parlo del mondo dello spettacolo soprattutto perché è quello che conosco meglio di tutti ma soprattutto perché è quello dove i soldi essendo sostenuti quasi per moltissime imprese anche al 100% da fondi pubblici si basano su quando arrivano i fondi pubblici quindi se io aspetto due anni faccio pesare su di lui anche il ritardo senza avvisarlo una cosa fondamentale qual è? l'archiviazione di un contratto non è che io l'ho firmato e poi non so dove l'ho messo perché equivale a quello che vi ho detto prima non averlo invece tu ti lo devi archiviare magari numerandolo la data c'è già perché in un contratto è obbligatorio che ci sia una data numerandolo e tirandolo archiviato perché è a tua garanzia sapere esattamente quando ho firmato un contratto dove l'ho messo anche perché un domani perché le cose non sono tutte veloci magari faccio un contratto di un lavoro di due anni e alla fine di due anni devo mettere una fattura se non trovi il contratto che avevo firmato due anni prima posso impazzire non mi ricordo la cifra non mi ricordo nulla come farlo dovrei chiedere all'altra persona con cui l'ho firmato magari non te lo dà quindi averlo conservarlo verificare tutto e leggerlo cose che faremmo tutti nella normalità vi posso assicurare che nella velocità delle cose molto spesso non si legge molto spesso si firma e si lasciano in un cassetto e ce lo si dimentica detto questo il mondo del lavoro nel mondo dello spettacolo è assolutamente complicato perché come vi ho detto prima chi dà lavoro nel settore dello spettacolo può essere l'impresa pubblica quindi una fondazione lirica di cui sono soci comune regione e ministero quindi tu ti trovi a diventare un dipendente pubblico anche se fai il musicista il violinista così come potresti fare lo stesso lavoro per un'associazione oppure ti chiama uno per una festa privata in un ristorante magari vi è capitato di andare a un ristorante o un matrimonio e c'è quello che suona il violino capitano queste cose tu potresti avere tre contratti facendo lo stesso lavoro tre, quattro, cinque contratti completamente diversi tra di loro alcune regole però non cambiano mai poi non considerate il fatto che c'è qualcuno che le rispetta e qualcun altro che non le rispetta però le regole non cambiano mai il problema di questo settore è esattamente questo che tu tratti allo stesso modo il lavoratore che stia lavorando con un ente pubblico rispetto a un lavoratore che magari sta lavorando con l'associazione teatro sospeso perché la modulistica la modalità gli oneri versati sono esattamente identici quando vi dicevo tenete conto delle persone che vi rappresenteranno magari voi diventerete scenografi pubblicitari lavorerete con i siti dovete conoscere bene la materia e non curare soltanto l'aspetto pratico e artistico creativo del vostro lavoro ma anche la materia di quello che poi genericamente interessa la vostra specifica attività perché io posso essere un bravissimo attore ma se non so curare i miei interessi perché non mi sono mai letto un contratto va a finire che posso essere bravissimo più bravo di Benigni come avevo nominato prima ma non avere mai successo e non avere mai una garanzia che quello che faccio mi dia l'opportunità di avere uno stipendio per pagarti la paghetta allora come funziona solitamente il mondo del teatro italiano ad esempio è fatto di cooperative una parte anche di associazioni che significa che le stesse persone che compongono la società cooperativa e l'associazione sono anche i lavoratori in una società cooperativa ad esempio si nomina l'assemblea dei soci nomina un consiglio di amministrazione il consiglio di amministrazione facciamo finta che voi quanti siete 25 siete soci di una cooperativa voi 25 nominate lui lei e me consiglieri di amministrazione quindi quelli che decideranno anche per conto vostro ma che comunque vi daranno anche come dire tutte le informazioni di quello che stanno facendo quando ci sono le assemblee dei soci però noi tre siamo i consiglieri di amministrazione e all'interno del consiglio di amministrazione noi tre decidiamo che lei è la presidente legale rappresentante quindi è quella che decide che deve avere la maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione ma decide sono femminista per questo ho detto lì e non te allora quello che decide è quello che ha il potere di firma potere di firma non è solo un potere è anche una responsabilità perché quando tu firmi qualcosa ti stai prendendo la responsabilità di quello che stai firmando e prendersi la responsabilità significa che se c'è qualche problema a livello fiscale a livello penale a livello civile lei ne risponde per conto di tutti ora un contratto non è firmato da uno qualsiasi è firmato da legale rappresentante a meno che il legale rappresentante faccio una delega approvata dal consiglio di amministrazione in cui dice che tu puoi firmare quando lei non c'è quindi entrambi diventate responsabili potere di firma equivale alla responsabilità delle cose che firmate è chiaro che avete un'autonomia decisionale e poi dovete rispondere a tutti gli altri soci di quello che state facendo ecco perché in una cooperativa o in un'associazione o in qualsiasi altro tipo di società si presenta prima un piano progettuale è un bilancio preventivo dell'anno e poi un bilancio consuntivo un progetto consuntivo per capire se gli obiettivi che erano stati dati sono stati perseguiti però chi gestisce tutti i giorni quello che è stato dichiarato è comunicato all'assemblea è il consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione che ha pieni poteri può decidere di fare tutte le cose che abbiamo detto stamattina un conto corrente in banca chiedere un prestito fare tutto quello che serve per poter realizzare il progetto che l'assemblea ha deliberato e tra questo quindi potere di firma anche firmare dei contratti sia dei contratti di commissioni perché hai venduto delle cose sia dei contratti di forniture o di acquisti di alcune cose e nell'ambito dello spettacolo significa che o perché hai venduto delle tue produzioni ad altri teatri oppure che tu hai acquistato produzioni di altre compagnie fatte venire al chismet a Bari oppure l'altro contratto che si può firmare con i liberi professionisti o con i dipendenti consulenti figure che sono dipendenti a busta paga della cooperativa collaboratori occasionali di qualsiasi tipo ora il fatto di firmare un contratto di lavoro da entrambi le parti comporta un accordo che deve essere rispettato se non fosse rispettato uno dei due potrebbe andare a quel foro e dire che qualcosa è successo e chiedere danni di solito sono danni economici nel nostro settore perché ci sono dei problemi e quindi anche voi se lavorerete in questo ambito potreste rischiare di avere dei problemi perché nel momento in cui c'è un regista che dice a un gruppo di attori i famosi i fantastici sei che dicevamo prima che devono provare per 15 ore e il contratto ne prevede 7 due sono le possibilità o i ragazzi dicono il contratto prevede che e lui dirà ok la prossima volta cambio gli attori perché non solo sono ciucci e quindi io sono costato a provare il doppio mi rompono le scatole anche perché non vogliono farmi fare le prove e quindi andiamo in scena con lo spettacolo che non è pronto ma questa è una cosa io lo sto facendo sul spettacolo dal vivo ma anche in un ambito di una scenografia o di un allestimento è uguale se tu devi consegnare l'allestimento domani sera alle 8 e oggi non sei pronto probabilmente lavorerai tutta la notte per far sì che il progetto si chiuda alle 8 di domani che altrimenti quello che ti ha chiamato non ti chiamerà più se tu lo consegni un giorno dopo perché la vetrina intanto deve essere pronta e il negozio deve essere aperto o il video se dovete consegnare un video esattamente la stessa cosa tra l'altro in alcuni casi in alcuni contratti ci sono anche delle penali rispetto alla mancata consegna torniamo al rapporto di lavoro tra dipendenti in una compagnia teatrale o in una compagnia di musicisti o di danzatori non cambia quello che fai non cambia rispetto a queste tematiche però ci sono dei problemi nel senso che le esigenze della parte artistica rispetto a quello che deve fare la parte la parte attoriale che deve mettere in scena uno spettacolo o semplicemente anche la parte tecnica la parte tecnica che deve costruire un allestimento scenografico un allestimento luci un allestimento audio a servizio dello spettacolo che deve consegnarlo in tempi come dire chiari alla regia che poi mette tutto insieme attori scene luci costumi e audio perché ci ha messo dentro anche la musica e chiude il pacchetto fa un'altra settimana di prova e va in scena col debutto tutta questa cosa qui perché si dice regia perché la regia deve far sì che ogni cosa vada al suo posto nel migliore dei modi quello che deve fare la parte organizzativa che come vi ho detto deve essere continuamente in simbiosi con la parte artistica perché lui non può decidere autonomamente di farvi provare dodici ore e non dirlo alla parte organizzativa perché io sono garante del legale rappresentante lui magari è stato chiamato a fare una regia e poi se ne va a casa sua se io non faccio sì che le normative vengano rispettate mica ci rimette lui ci rimette il legale rappresentante cioè se i ragazzi mi fanno causa perché io gli ho fatti lavorare il doppio di quello previsto dal contratto è lei che ha messo la firma sui contratti del legale rappresentante e deve metterci la faccia e rispondere alla causa quindi lei nomina come presidente legale rappresentante a meno che non lo faccia lei direttamente un responsabile un direttore organizzativo che faccia sì che quello che dice la parte artistica non vada contro quello che dice poi il legale rappresentante devono andare insieme allora ora mettetevi nei panni in un momento concreto in cui c'è un problema di questo tipo lui dice voglio fare altre sei ore di prove dopo averne fatte già sei il contratto non prevede una cosa del genere che cosa si dovrebbe fare secondo voi è chiaro che anche a voi interessa la buona riuscita dello spettacolo cioè se lo spettacolo va male non è che ci rimette solo il regista il produttore ci rimette anche l'attore che magari va in scena in uno spettacolo brutto e non viene chiamato più da nessuno allora siccome queste cose sono le storie di tutti i giorni che sia un'impresa appunto che fabbrica divani o un'impresa che produce spettacoli oppure fa allestimenti pubblicitari ma ti troverai a dover risolvere situazioni di questo tipo a livello individuale o a livello di gruppo e lei deve rispondere di delle cose che magari non decide neanche direttamente ma decido io per conto suo perché lei a me può licenziare se io sbaglio però comunque è lei che deve rispondere a fronte della causa che è stata fatta dai ragazzi dei dipendenti bisogna trovare delle soluzioni a me sto descrivendo una situazione che è capitata in un'occasione di quel tipo si disse è vero che non è previsto dal contratto è vero che devo darti che stai lavorando 6 ore in più anziché darti la 100 euro ti do 150 euro quindi tu hai alzato la paga a fronte di 6 ore anche se le ore che tu hai lavorato sono 12 non è corretto ma non potendo aumentare le ore di lavoro o aumentavo la paga oppure loro non facevano le prove e lo spettacolo non andava in scena oppure se andava in scena era un disastro per tutti compresi gli attori queste sono decisioni che devono prendere anche gli artisti stessi non soltanto chi come dire coordina il tutto e propone delle soluzioni perché altre soluzioni potrebbero essere ti riconosco una giornata di riposo in più rispetto a quella prevista dal contratto anziché avere una alla settimana tenendo due pagate però comunque recuperi queste ore in più facendo un giorno di pausa in più tutta questa sembra teoria ma è quello che noi ogni giorno nell'ambito dei propri settori specifici vado ad affrontare sembrano delle banalità però poi nel momento in cui tu devi chiudere il progetto che hai portato avanti che sia appunto un divano o un allestimento scenografico o uno spettacolo teatrale ti troverai ad avere a che fare con queste situazioni qui ora i problemi di un contratto sono tanti perché vi ho detto prima che purtroppo i rappresentanti in questo caso degli operatori culturali quindi degli attori dei tecnici degli scenografi in altri casi invece magari degli operari non conoscono bene la materia e quindi quando vanno a sottoscrivere i contratti collettivi nazionali del lavoro scrivono delle cose che poi non stanno né in cielo né in terra sappiate anche che in un momento come questo prima esisteva una disparità tra il datore di lavoro e l'operario è molto spesso il datore di lavoro prendeva come dire aveva un reddito anche 100 mille volte superiore a quello che è l'operario quindi se un operaio guadagnava un milione al mese forse il datore di lavoro ne portava a casa 100 milioni adesso soprattutto nelle piccole società vi ho detto prima che 8-9 imprese su 10 sono piccole imprese molto spesso familiari sotto i 15 dipendenti la buona riuscita del datore di lavoro è anche merito del lavoro dei dipendenti e soprattutto se i dipendenti non lavorano bene sicuramente se l'industria o la piccola fabbrica o la compagnia teatrale fallisce perdono il posto di lavoro quindi è una corresponsabilità da questo punto di vista tutti dobbiamo prenderci la responsabilità di fare le cose nel migliore dei modi e con come dire una correttezza professionale richiedendo quello che ci spetta quello che ci spetta però tu lo puoi ottenere se non fai fallire l'impresa per cui lavori vi ribadisco il concetto che essendo quasi sempre rapporti di soci lavoratori io sono il datore di lavoro di me stesso e anche qualora non lo fossi la non riuscita di uno spettacolo teatrale di cui io sono attore protagonista va anche a mio discapito quindi come dire è una cosa in cui ci metti la faccia sapete che nelle locandine di un film o di uno spettacolo di teatro di Dante ci sono i nomi non soltanto dei registri e di chi ha prodotto quello spettacolo ma di tutti gli attori degli scenografi del live designer del tecnico del sarto del costumista quindi se la cosa non funziona tutti quelli che sono scritti là a partire dal produttore sono dentro un fallimento quindi l'interesse di tutti è far sì che quella cosa si realizzi ora perché chi ci rappresenta non conosce la materia vi ho fatto degli esempi prima se uno spettacolo dura quattro ore ma l'assunzione per legge è a giornata lavorativa solare quindi io vi sto dicendo che oggi noi facciamo siete tutti scritturati per il mio spettacolo oggi l'impiego di una giornata lavorativa vi ho detto che è massimo di sette ore voi sapete non so se vi è mai capitato che ci sono anche spettacoli che durano più di sette ore sono delle performance teatrali come dire che possono essere anche per più di sette ore o semplicemente come vi ho detto prima uno spettacolo inizia alle nove e finisce a luna di notte essendo l'assunzione a giornata lavorativa quindi oggi che giorno è? oggi è 16 è 16 16 gennaio 2015 io ho scritturato voi tutti per il 16 gennaio 2015 quindi fino alla mezzanotte del 16 quella ora che va oltre è fuori ma non è una questione economica non è quello il problema il problema è che se tu ti fai male da mezzanotte a un minuto non sei più coperta perché l'assunzione non è soltanto l'accordo su quello che io ti devo dare è anche la copertura in base a incidenti sul lavoro malattie che tu puoi avere quindi hai la possibilità di metterti in malattia a stare a casa a curarti a guarire e poi tornare al lavoro e soprattutto gli oneri previdenziali casomai qualcuno di noi li percepirà quando andremo in pensione ora questa è una banalità che però vi fa capire quanto chi definisce i contratti non conosce il settore per cui lavora tutti i contratti io infatti ho detto a lui io potrei pure proiettarlo questo è un contratto collettivo nazionale del lavoro che è stato sottoscritto a novembre sono più di 60 pagine proiettarlo secondo me sarebbe stato inutile però se qualcuno lo vuole lo possiamo fotocoppiare oppure mi da l'indirizzo di posta elettronica che è ancora meglio e ve lo mando questo è il contratto collettivo nazionale del lavoro per il settore dello spettacolo dal vivo ed è stato sottoscritto a novembre 2014 quindi un mese mezzo un mese venti giorni prima della fine dell'anno e dell'inizio dell'anno nuovo di solito i contratti collettivi nazionali del lavoro rimangono sempre uguali viene adeguata la paga come dire costa di più la vita anziché 50 euro l'anno dopo tenendo 52 dopo due anni diventano 53 e così via in questo caso hanno fatto delle modifiche che su cui c'è da dire molto perché quando è che voi andate a vedere un film o uno spettacolo o un concerto sì ma di solito capita ve l'ho detto prima il sabato o la domenica perché è chiaro che io vado a proporre un momento di intrattenimento quando la gente o la maggior parte della gente perché poi ci sono pure chi fa i turni è libero no? questo contratto collettivo nazionale del lavoro prevede che la domenica e i giorni festivi questo è stato sottoscritto da tutti i sindacati da tutte le associazioni di categoria che non hanno mai parlato poi con gli operatori no? anche se sarebbero poi nominati dagli operatori questo contratto ha cambiato le carte in tavola dal primo gennaio perché dice se tu fai uno spettacolo i rossi in calendario le domeniche tutti i festivi devi dare il 90% in più ai tuoi al tuo personale quindi se io prendo 100 euro quando faccio lo spettacolo di domenica ne prenderò 190 ora dal punto di vista individuale io dico fantastico bellissimo prenderò il doppio ora mettetevi nei panni di uno che è anche socio lavoratore quindi non è soltanto quello che ha l'aumento ma anche quello che paga quell'aumento secondo voi io che organizzo gli spettacoli inizierò a mettere più domeniche o meno domeniche perché mi costano molto di più questo significa più lavoro o meno lavoro per gli operatori del settore e questo significa rispetto al pubblico dare più possibilità o meno possibilità di far vedere il proprio lavoro togliendo un giorno di replica la domenica allora perché io dico i contratti bisogna saperli leggere bisogna conoscerli non dico a memoria ma quasi bisogna sapere tutto però bisogna capire anche quando hanno un senso e quando no ora questo è un esempio un esempio positivo invece di questo contratto è che è come dire è stata data la possibilità di fare una banca ore la banca ore che cos'è qualora capiti che io ho fatto più ore di quello che è previsto dal contratto li posso recuperare che è esattamente quello che vi dicevo prima che fino al 31 dicembre non era possibile quindi se io provo due ore in più di quello che è previsto dal mio contratto collettivo nazionale del lavoro attraverso il sistema della banca ore quindi io metto una firma quando entro una firma quando me ne vado posso recuperarlo in un altro momento quindi senza un passaggio amministrativo o economico lo posso recuperare questa è una cosa positiva almeno una ce n'è ora i contratti questi sono i contratti tra un datore di lavoro e un dipendente che può essere un sociolavoratore o no poi ci sono i contratti tra un'impresa e un'altra così come ci sono i contratti con persone che lavorano una volta con te magari noi andiamo a Milano a fare una replica dobbiamo chiamare un facchino per scaricare il camion lo abbiamo chiamato quel giorno e basta quelli si chiamano contratti di collaborazione occasionale bisogna stare attenti perché i contratti di collaborazione occasionale li usano più o meno tutti perché siccome tu su quel contratto paghi hai la possibilità di pagare solo il 20% di imposte quindi di tenuta da conto sono quelli più convenienti dal punto di vista economico però bisogna stare attenti perché quei contratti ti obbligano a non superare le 30 giornate solari non superare i 5.000 euro lordi molto spesso siccome uno non tiene il conteggio e lavora con più strutture fa in continuazione il tenuto da conto non tiene conto né delle giornate solari e né dei 5.000 euro lordi se tu li superi e se ne accorgi l'agenzia delle entrate obbliga a te a fare i versamenti che non hanno fatto le imprese perché tu sei obbligato superati i 5.000 euro lordi a aprirti una posizione IMS e a versare l'IMMS perché hai superato un reddito che loro hanno definito che possa essere giusto di 5.000 euro lordi per le collaborazioni occasionali così come 30 giorni solari sono perché non deve essere un rapporto continuativo perché è saltuario ora è chiaro che ognuno si prende la responsabilità di dire senti è vero che tu hai lavorato 5 mesi continuativi io però non posso spendere il 40% degli anni ne spendo il 20% ma è una responsabilità che mi prendo io rispetto all'istituto previdenziale e rispetto al fisco e tu che hai sottoscritto il contratto c'è sempre una corresponsabilità poi è chiaro che io tenderò a dire che è colpa sua e lui tenderà a dire che è colpa mia davanti a un tribunale dove c'è un giudice ora nel momento in cui invece io chiamo una compagnia a fare uno spettacolo da me c'è un altro tipo di contratto che è il contratto in questo caso di rappresentazione teatrale è un pochino più complesso perché non essendo io a definire tutto lo definisco appunto come diceva lei anche con la controparte definisco una serie di aspetti innanzitutto quando c'è la prestazione il giorno il luogo quindi il teatro sospeso viene il 15 gennaio al teatro chisme di Bari che è sito in strada San Giorgio Mare cioè lo specifico dopodiché gli dico a che ora è lo spettacolo dopodiché gli quantifico anche il compenso che vado a dare alla compagnia teatrale questa è la prima parte poi si definiscono come esattamente nell'altro caso quali sono gli aspetti economici e la tempistica con cui deve essere pagato e soprattutto su quale conto dopodiché ci sono tutti gli aspetti pratici la compagnia mi deve dare l'agibilità a Enpas che non è altro che un riepilogativo delle assunzioni di tutto il personale che sta venendo da me a fare lo spettacolo quindi probabilmente sono attori e tecnici me la deve dare perché io devo avere la certezza che lui li abbia assunti li abbia contrattualizzati e sia versato i contributi per quei giorni di spettacolo poi devo avere la certezza che lui si è autorizzato a fare quello spettacolo quindi abbia avuto l'ok dell'autore o in caso di autore morto abbia versato appunto i diritti siae dopodiché bisogna definire anche l'aspetto della normativa sulla sicurezza rispetto ai corretti montaggi adesso qualsiasi montaggio anche quello pubblicitario quello scenico quello di uno spettacolo teatrale o quello di un semplice concerto è definito dal punto di vista della sicurezza un cantiere quindi tutto il personale deve avere le attrezzature antinfortunistica dal caschetto alla cintura alle scarpe antinfortunistica firmare il modulo in cui si dice che qualcuno gliel'ha consegnato che loro li hanno presi devono aver fatto i corsi della sicurezza il lavoro in altezza nel caso in cui il lavoro sia un montaggio di fare in altezza o di scenografie devono aver fatto i corsi di pubblico soccorso eccetera eccetera scusate dopodiché si definiscono i tempi di montaggio perché se lui fa lo spettacolo stasera alle 9 e ha bisogno di 8 ore il teatro e quindi magari da stamattina me lo deve dire in quanto io magari stamattina se so che il teatro e il libro ho fatto un'altra cosa ah grazie è chiaro che più dettagli si vanno a inserire in un contratto più leggo me stesso a rispettarli però più ho garanzie che le cose vengono fatte così come io chiedo una domanda quindi quando porto il service per esempio audio luci è importante è importante che questo service abbia tutte le garanzie delle attrezzature che ha cioè che siano tutte certificate assolutamente allora se tu dovessi rispettare tutte le normative in Italia non si farebbe più né l'opera lirica né anche lo spettacolo di piazza però la legge è questa ed è corretta nel senso che tu vieni al teatro chismet mi devi portare la documentazione che tutti i materiali dell'allestimento che stai facendo siano certificati ignifugati e quant'altro io se non te li chiedo sono responsabile quanto te di averti fatto montare lo spettacolo con materiali che ad esempio non sono ignifugati e in caso di incendio prendono subito fuoco quindi anche se porto una scrivania di legno o una sedia di legno dovresti aver fatto si chiama si dice in questo modo come dire averla lavorata in modo ignifugo quindi aver passato la vernice per far sì che comunque la pedana non prenda fuoco come te lo certifica te lo devo sottrascrivere è una tua in qualche caso è proprio allora se una cosa acquistata te lo certifica il venditore se una cosa che hanno montato loro te lo devono certificare i costruttori ad esempio ma soprattutto essendo un cantiere c'è il documento di valutazione dei rischi che è laddove si mettono insieme delle imprese diverse il teatro che ti ospita la compagnia che viene a montare vuol dire che ci deve essere una pratica che unisce il documento di valutazione dei rischi dove è elencato tutto il personale tutte le certificazioni che hanno le persone che appunto stanno partecipando a quel montaggio i materiali che vengono utilizzati e poi qualcuno che si prende la responsabilità del corretto montaggio quando sono cose semplici è il responsabile tecnico della compagnia quando sono cose più complicate come un concerto in piazza è un ingegnere che è scritto all'albo che può dichiarare una cosa del genere perché c'è tutto un progetto presentato poi a lente prima del montaggio quando è all'aperto e deve esserci un parere della commissione comunale che ti dà l'ok al corretto montaggio e quindi ti fa fare il concerto perché se non ti dà il parere positivo tu il concerto non lo fai ora questi sono tutti aspetti che vengono definiti in un contratto perché qualora succedesse qualcosa la responsabilità deve essere dimostrabile se la responsabilità di un incendio è della compagnia perché il montaggio non è stato eseguito correttamente lei che è il regale rappresentante deve poter dimostrare che la responsabilità è tua e viceversa allora torniamo al punto di stamattina tu piccola compagnia o comunque noi siamo una cooperativa una piccola impresa cioè siamo importanti a livello culturale ma rispetto al mondo dell'imprenditoria noi siamo considerati una piccola impresa abbiamo un fatturato di quasi di oltre 2 milioni di euro e abbiamo circa 70 dipendenti tra scritturati e non davanti al mondo imprenditoriale siamo come dire di medie dimensioni piccole dimensioni puoi avere un consulente per qualsiasi cosa perché dovesse avere anche un consulente tecnico a parte quello legale a parte quello fiscale a parte quello del lavoro ma tu puoi fare tutto in questo modo no devi come dire non essere un tuttologo però devi far sì che le carte siano messe nel migliore dei modi possibili e quindi i contratti te li devi studiare e li devi proporre a garanzia tua ma anche di quello che viene a trovarti ora vi leggo velocemente quello che dice un contratto di prestazione artistica tra una compagnia e un teatro sono due paginette allora scrittura privata di prestazione artistica perché scrittura privata perché non essendo obbligatorio avere un contratto è una scrittura privata tra me e loro tra la compagnia teatro sospeso e qui bisogna nominare non soltanto il il nome commerciale ma anche la ragione sociale quindi potrebbe essere teatro sospeso associazione tra il dire e il fare con sede in via quindi la sede legale nella sua persona del presidente presidente vedi qui dice nella persona del suo legale rappresentante quindi saresti tu come ti chiami nella sua persona del legale rappresentante Anna Lisa è il teatro Kismet con sede in stanza San Giorgio Martire a Bari partita IVA codice fiscale nella persona del suo legale rappresentante sono io Vincenzo Cipriano si conviene e si stipula quanto segue punto 1 oggetto il teatro scrittura la compagnia per la rappresentazione dello spettacolo la tragica storia del dottor Farsi ok presso il teatro Kismet di Bari per numero repliche quindi due repliche tre repliche una replica dieci repliche nei giorni alle ore con premontaggio in data e alle ore ve lo ripeto sembra una una stupidaggine prevedere i tempi di premontaggio è essenziale perché togli i teatri privati dove io conosco la mia materia e so esattamente come funziona che non è che tu arrivi lo spettacolo alle 18 tu arrivi alle 17 ti cambia per lo spettacolo però tu immaginati un teatro comunale dove probabilmente c'è il funzionario del comune che prende le telefonate fa il calendario e mette lo spettacolo tuo alle 18 poi ce n'è un altro alle 19 ah ma il libro anche prima alle 17 magari c'è un convegno di dentisti perché è importante perché tu invece devi avere la possibilità di fare un montaggio fatto per bene quindi questo è essenziale non tutti lo mettono per questo lo sto sottolineando punto 2 corrispettiva modalità di pagamento il teatro corrisponderà alla compagnia un compenso a replica pari a euro perché si definisce a singola replica anche se sono 10 le repliche tu non dici il valore di 10.000 euro lo devi quantificare a singola prestazione perché se per un qualsiasi motivo delle 10 recite previste ne salta una tu devi avere la possibilità di quantificare chiaramente quanto spetta per quante recite è fatto più IVA come per legge più IVA come per legge significa che tu sai l'IVA che devi applicare come associazione non la so io io so l'IVA che applico io tu sei responsabile di quella che applichi tu quindi si dice più IVA come per legge perché quando tu mi darei la fattura io scoprirò in quel caso qual è l'IVA che tu applichi non lo posso sapere prima detto compenso verrà liquidato dietro presentazione regolare fattura completa di tutti i dati bancari della compagnia con le seguenti modalità e qui si parla di tempistica c'è qualcuno che chiede un acconto qualcun altro che dice al termine della recita qualcun altro che non dice niente dice quando ce li hai me li dai qualcuno che scrive a contributo ministeriale che significa niente io vi consiglio di indicare una data magari dando anche la possibilità che sia come dire con una tempistica abbastanza ampia ma una data precisa è sempre meglio che essere molto vaghi perché così tu hai una chiarezza rispetto al momento in cui la controparte è da quel momento in difetto quindi questo è importante la data è sempre meglio di lasciare qualsiasi frase che non specifichi nulla obblighi della compagnia sei tu legale rappresentante la compagnia dichiara di essere titolare dei diritti di rappresentazione dello spettacolo quindi sta facendo uno spettacolo che ne so di il dottor Fausto cioè la liberatore di un traduttore che ha tradotto il testo esatto esatto perché casomai lui sta facendo uno spettacolo senza averlo detto all'autore l'autore non è stato come dire rispettato quindi non ha ricevuto il compenso o non ha accordato perché non gli piaceva lo spettacolo perché può essere questo motivo lui mette in scena uno spettacolo l'autore dice non mi piace non condivido la visione con cui lui ha messo in scena quello spettacolo non te lo faccio fare potrebbe succedere quindi dichiara di essere titolare di diritti di rappresentazione dello spettacolo oggetto del presente contratto e garantisce quindi sempre tu eh di essere munita di tutte le autorizzazioni licenze permessi e quant'altro necessarie alla realizzazione dello spettacolo ora siccome siamo in Italia e le licenze i permessi e quant'altro sono infiniti e non li puoi iscrivere tutti tu in maniera generica gli dici che tu devi rispettare tutte le norme tutte poi continua la compagnia si impegna in ote ad inviare non oltre 30 giorni prima della data dedicata al presente contratto per l'inizio delle rappresentazioni la scheda tecnica dello spettacolo che si specifica essere a carico della compagnia in mancanza il teatro non assume responsabilità in ordine a difficoltà tecniche che dovessero sorgere questo è un aspetto molto pratico ma alla fine se non viene definito bene questo tutto il resto potrebbe non funzionare perché oltre all'orario in cui tu mi dici senti a me il palco del chisme mi serve alle 9 di mattina per essere pronti alle 18 per fare lo spettacolo tu mi devi mandare la scheda tecnica in cui magari scopri che tu hai bisogno di tot energia elettrica di 50 kilowatt e io non sono fornito di 50 kilowatt ma ne ho 30 se io non lo so e tu non me lo dici nei tempi non posso neanche provvedere a far aumentare con un gruppo elettrogeno o semplicemente chiamando l'ennel e dire aumentami i kilowatt per quel giorno e quindi tu non sei messo nelle condizioni di fare lo spettacolo o di utilizzare tutte le luci e gli impianti che hai montato per responsabilità tua perché non mi hai dato le informazioni prima questi sono aspetti pratici e tecnici ma sono fondamentali per la buona riuscita di uno spettacolo teatrale o di un concerto musicale tenete conto che questo è generico perché noi stiamo parlando dello spettacolo semplicissimo dove potrebbe esserci un monologo non so se avete mai visto uno spettacolo di Ascanio Celestini un monologo con una sedia una lampadina e forse neanche il microfono probabilmente tutte queste cose qua sono quasi inutili però questo contratto deve poter mettere dentro Ascanio Celestini con un monologo e uno spettacolo compresso come quello che potrebbe essere quello della società Raffaello Sans perché non è che tu puoi ogni giorno cambiare il contratto è la scheda tecnica che si va a modificare perché è una scheda tecnica che diventa un allegato del contratto e che è diversa chiaramente da spettacolo a spettacolo da allestimento ad allestimento ma non è che deve essere diverso il contratto qui tu dici non qual è la scheda tecnica dici me la devi mandare entro otto giorni perché altrimenti non mi metti nelle condizioni di darti quello che ti serve e quindi non ti posso garantire che poi lo spettacolo venga fatto ma nella scheda tecnica va messo in questo oppure il fonico certo cioè se hanno bisogno di quello oppure già ce l'hanno esatto perché magari ti dicono che loro hanno bisogno di un aiuto fonico hanno bisogno di 30 kilowatt o 50 kilowatt hanno bisogno e vi posso garantire che succede voi studiate scenografia avete detto non studiate scenografia ok fate allestimenti pubblicitari quindi anche allestimenti cioè potreste fare un allestimento qui sopra potreste dovreste la prima cosa da sapere è quanto è grande il palco per capire che allestimenti giusto vi posso garantire che succede ed è successo e continuerà a succedere che molto spesso soprattutto nei teatri comunali capita di comprare spettacoli perché vi ricordo che quasi tutti gli accordi inizialmente si chiudono per telefono poi tu entri nel merito del contratto della scheda tecnica ma solitamente l'accordo lo chiude a giugno lo spettacolo magari a marzo dell'anno dopo e succede che io chiamo la compagnia per farmi andare il contratto nel mese di febbraio gennaio cioè non sempre l'accordo avviene in diretta e non sempre chi fa l'accordo ha le competenze per poterlo fare capita di comprare uno spettacolo con 50 attori in scena con un allestimento di 10 metri e volerlo fare qua arriva la compagnia qui ed è capitato a qualche chilometro di distanza da Andria che cosa succede secondo voi? chi è che paga? chi compra? quindi in questo caso il teatro comunale chi è che deve avere l'attenzione che sta spendendo i soldi nel modo giusto? chi paga la compagnia quando ha una richiesta gli dice ti mando tutte le informazioni tutte le documentazioni se dall'altra parte non c'è qualcuno che li legge li sappia leggere perché magari a me non dice niente che hanno bisogno di un palco 10x10 a un tecnico o uno che lavora nell'ambito delle scenografie degli allestimenti gli viene subito evidente che c'è un palco di 5x6 e loro hanno una scenografia di 10 ma un impiegato comunale probabilmente non gli dice assolutamente una cosa del genere quindi che succede che la compagnia se ha richiesta dei documenti da parte dell'ente glieli manda altrimenti non glieli manda il comune arriva alla data in cui dice oh firmami il contratto gli firma il contratto magari si è fatto inviare anche la scheda tecnica ma non l'ha letto che succede arriva la compagnia teatrale qui c'è un contratto firmato da parte di entrambi e si rendono conto che lo spettacolo non entra la compagnia se non dovesse effettuare lo spettacolo dovrebbe non solo cioè dovrebbe rinunciare all'intero cachet il comune o il contraente se non fa realizzare lo spettacolo comunque dovrebbe pagare una penale che cosa succede che lo spettacolo si fa si montano la metà delle cose si fa la versione ridotta probabilmente gli attori vengono non dico dimezzati perché non li puoi non puoi togliere le parti ma si siedono perché è successo qui davanti e fanno la loro parola quindi senza recitare così tu parla faccio quindi la cosa si fa lo stesso e si speccano dei soldi non sono come dire contenti gli attori perché comunque loro volevano fare lo spettacolo fatto per bene non è contento il pubblico magari neanche se lo accorge il pubblico perché non è detto che possa sapere come uno spettacolo in realtà lo vede quel giorno per la prima volta però questo significa che tutti gli aspetti che di solito banalmente come dire vengono sottovalutati invece sono fondamentali allora qui l'esempio di prima se tu e io già abbiamo lavorato insieme dieci volte tu conosci benissimo il mio teatro io conosco benissimo il tuo modo di lavorare magari anziché dedicarci dieci minuti ci dedico un minuto a leggermi il contratto sia io che te però ci conosciamo bene quindi tu sai dove stai venendo a fare lo spettacolo io so lo spettacolo che proponi qual è perché non sempre li vedo gli spettacoli che compro magari c'è qualche spettacolo che non riesco a vedere oppure perché in debutto nazionale l'anno scorso abbiamo ospitato il debutto internazionale dello spettacolo del malante chiaramente non l'aveva visto nessuno prima però loro sapevano che lo spazio scenico e il chismet era quello e quindi si sono organizzati in maniera tale che l'allestimento fosse fatto in uno spazio giusto la compagnia vado avanti si assumerà la responsabilità artistica dello spettacolo e prenderà a suo carico i cash e i salari degli artisti e tecnici impiegati quindi i tuoi dipendenti te li devi pagare tu sono inoltre a carico della questo significa che a prescine che io ti dia il cash o no è responsabilità diretta tua e quindi sua che è sempre la grande rappresentante rispetto ai propri dipendenti sono inoltre a carico della compagnia le spese di trasporto del materiale scenico i viaggi e le spese di soggiorno può capitare che magari io e lui ci mettiamo d'accordo che le spese di trasporto e di soggiorno siano a carico mio o può capitare che io dica no nel cash che ti do di 2.000 euro devi comprendere tutto consiglio è meglio avere una cifra chiara che non una cifra non chiara che potrebbe spostare notevolmente le economie perché se io so che lui con 2.000 euro deve fare tutto la mia certezza di uscita è quella quando invece lascio un'apertura e dico si provvederà a pagare le spese di soggiorno e quant'altro vi posso assicurare che nascono i problemi perché io per risparmiare magari ti mando al ristorante con due stelle tu arrivi e inizi a rompermi le scatole perché dici il ristorante non è adatto l'albergo non è adatto voglio andare voglio cambiare l'albergo voglio cambiare il ristorante quindi se io avevo previsto di spendere 100 magari mi trovo a spenderne 300 ora siccome è appunto c'è un rapporto di cordialità ospitalità ve l'ho detto prima che è uno dei punti fondamentali non capita che io ti mando di una bettola però sappiate che non tutti gli artisti sono uguali mica essere artista significa essere una brava persona ci sono anche dei grandi scusate stronzi quindi ti può capitare quello che dici io voglio andare nell'albergo a 5 stelle voglio andare nel ristorante a 5 stelle non me ne frega nulla che tu non sei in grado di pagare un problema tuo quindi è meglio definirlo e dire veditela tu e sappiate che quelle esigenze che l'artista di andare all'albergo a 5 stelle se sono a carico suo si abbassano immediatamente perché una cosa è la dignità e una cosa andare nel lusso quando te lo puoi permettere magari lo fai altre volte forse è meglio evitare nel caso nel caso di particolari allestimenti scenici prima dell'inizio dei lavori il responsabile della compagnia concorderà con il direttore tecnico e con il responsabile del servizio prevenzione e protezione l'SPP non so se vi è mai capitato di averci a che fare le misure di sicurezza da adottare di tale risultanza sarà redatto verbale sottoscritto dalle parti vi posso assicurare che io in 20 anni ne ho visto neanche uno perché rileggo la prima frase nel caso di particolari allestimenti scenici questo particolare allestimenti scenici chi lo definisce? lo definiscono loro quando si incontrano quindi basta non definire un particolare allestimento scenico ma definire un normale allestimento scenico che non c'è più bisogno di un verbale queste sono cose alcune di queste cose non è che ce ne siamo inventate noi sono proprio delle forme contrattuali di base quindi noi le applichiamo come le applicano tanti altri ma sono delle enormi stupidate di tale risultanza sarà redatto verbale sottoscritto dalle parti in caso di inandempienza alle norme di sicurezza e facoltà del teatro sospendere immediatamente le attività in corso e la compagnia dovrà provvedere al risarcimento degli eventuali danni o maggiori oneri derivanti da detta sospensione ma per particolare che cosa significa? tutto e niente allora una compagnia professionale è un teatro professionale nel momento in cui io so che tu devi venire da me non aspetto né la firma del contratto né tutto il resto per avere tutti i dettagli di quel montaggio ci è capitato anche cioè ci è capitato anche di dover smontare completamente il teatro perché uno spettacolo era talmente impegnativo che per il tipo di spettacolo c'erano dei cavalli in scena cinque in un capannone industriale c'erano cinque cavalli in scena bianchi io ero appena arrivato al chismet e lì dissi questi soppazzi e avevano allestito un fienile all'interno del capannone quindi quello è un particolare allestimento scenico ma se ci rifletti significa togliere tutto quello che c'è e mettere del fieno a terra però non è nello standard perché di solito voi arrivate questo è il palco lì c'è non c'è ma dovrebbe esserci una graticcia lì monto i fari qui metto l'impianto audio e questo è lo spazio scenico questo è un normale allestimento quando ti trovi in situazioni di quel tipo non è un normale allestimento ma dal punto di vista tecnico è più semplice di questo perché io ho smantellato tutto e ho messo della paglia è più complicato da un punto di vista pratico perché quante persone mi servono a smontare il palco ma siccome l'abbiamo fatto ti posso dire che quello è stato uno dei motivi bellissimo spettacolo e non ci sono tanti è ancora più complicato fare le cose all'aperto perché fare le cose all'aperto prevede un progetto preventivo fatto da un ingegnere una commissione di vigilanza cioè non che non sia proprio così fatto in luogo chiuso però non ci sono per quel tipo di spettacolo in realtà non esistevano luoghi adatti loro si adeguavano ai luoghi che trovavano ma è anche vero che se non avevi dimensioni di quel tipo non l'avresti mai potuto fare infatti quello è un spettacolo bellissimo che ha fatto 20 recite in tutta la sua vita in Italia all'estero dove non c'erano problemi tecnici burocratici ci hanno fatto un po' di più qualche migliaio in più stiamo parlando sempre della Raffaello Sanzo allora di tale risultanza sarà detto verbale ok sottoscritto in caso di un'ambienza denominativa di sicurezza facoltale il teatro sospende immediatamente l'attività in corso non succede mai con i professionisti però potrebbe succedere con qualcuno o magari con i non professionisti può capitare anche che io teatro chismet il teatro ha una scuola di danza è che la scuola di danza o la compagnia amatoriale o una compagnia di professionisti porti dei materiali che non sono proprio adeguati non soltanto alla normativa di sicurezza ma potrebbero come dire creare un incendio per un qualsiasi motivo e il mio tecnico che ha anche la responsabilità insieme alle gare rappresentanti perché è quello che firma nel caso il verbale è quello che dice no un attimo Domenico mi hai portato questo impianto non va bene quindi o lo sostituiamo lo spettacolo non si fa capita raramente ma può capitare dipende dagli accordi perché magari la porta tutta lui oppure gliela fornisco io se la fornisco io la conosco benissimo se la porta a lui non ho idea di che cosa mi possa portare oppure se mi porta esattamente quello che era previsto in scheda tecnica perché se è a carico suo io potrei anche non saperlo non sarà possibile installare in sala alcun tipo di attrezzatura che provochi ostacoli la limitazione al percorso del pubblico e le altre uscite di sicurezza ora voi vi immaginate uno spettacolo teatrale come dire a pianta frontale lo spettacolo sta lì e noi siamo qui cioè esattamente com'è questo palco ma non tutti gli spettacoli teatrali sono così se voi siete creativi e volete fare creativi magari vi inventate una cosa diversa dove lo spettatore sta sul palco e io sto dove state voi adesso potrei fare lì l'allestimento abbiamo fatto anche esperienze di questo tipo e quindi invertire tutto tutto può essere fatto però deve essere fatto in maniera tale che non ci siano ostruzioni ad esempio alle uscite di emergenza cioè non posso fare un allestimento scenico dove vado a mettere dei pannelli scenografici davanti a questa porta e davanti a quella e ostruire tutte le uscite di emergenza se succedesse una cosa del genere se ci fosse un incidente io me ne vado in galera insieme a quello che l'ha montato cioè tu scusami mi sono preso io le responsabilità a posto tuo tu vai in galera perché sei legale rappresentante insieme a lui che è della compagnia ha montato lo spettacolo è al teatro che ti ho ospitato la compagnia si impegna altresì a consegnare al teatro prima dello spettacolo copia del permesso di generale di rappresentazione siae agibilità empalzi poi andiamo a toccare che cos'è l'agibilità empalzi perché tocchi il rapporto con gli scritturati della certificazione di inifigazione dei materiali scenografici e della dichiarazione di conformità delle apparecchiature elettriche ora l'abbiamo detto prima se io compro un come dire delle sedie dalla fabbrica tu vedi il marchio vedi il modello se si rompe quella sedia magari lei fa causa alla dita che ha fatto la sedia non a me se la sedia me la so costruita io con i materiali di risulta che ho trovato l'altro giorno nella discarica siccome negli ultimi anni fortunatamente va di moda utilizzare questo tipo di cose io che ho costruito la responsabilità di quella costruzione che faccio un'autocertificazione una sorta di autocertificazione in cui mi prendo quella responsabilità così come immaginate noi abbiamo spettacoli storici noi ad esempio ci sono spettacoli che hanno anche vent'anni di vita abbiamo tutto allestito in scenografia costumeria e in attrezzeria alcuni materiali sono vecchi di vent'anni di trent'anni altri erano già vecchi perché magari li hai comprati al mercatino dell'antiquariato fai uno spettacolo dove magari c'è una poltrona o un lampadario che hai comprato al mercatino dell'antiquariato allora sei tu tecnico della compagnia che come dire fa le modifiche a quel lampadario per essere montato in scena e si prende la responsabilità che l'abbia fatto a norma perché non esiste una ditta dopo cento anni che ti può attestare una cosa del genere gli spettacoli devono avere la possibilità di essere fatti in mille modi diversi quindi è il contratto che diciamo la cooperativa fa al tecnico dove menzioni nel contratto di situazione la responsabilità come tuo ruolo di... no no è una responsabilità diversa perché questa è una responsabilità sulla sicurezza che il tecnico in base al livello e alla qualifica che ha deve prendersi non è che io gli posso specificare di quale attrezzatura stiamo parlando prima e in generale rispetto al ruolo che ha la compagnia provvederà ad inviare Portofranco almeno 40 giorni prima del debutto 50 locandine sembra una cavolata questa in realtà ogni locandina ha un costo un euro 50 centesimi a locandina ora non immaginatevi Andrea dove magari tu metti 50 locandine e hai coperto più o meno tutto il territorio comunale fai una manifestazione con 50 locandine più o meno tutto il paese sa che c'è quell'evento immaginatevi città come Roma non dico come Bari come Roma dove servono 5.000 locandine 20 manifesti 6x3 100 manifesti 50-70 e tu non hai specificato chi paga questa cosa qui perché 30 locandine ti costano 30 euro 15 euro quindi tu dici siccome ci tengo anche al fatto che lo spettacolo funzioni te le mando volentieri gratuitamente a carico mio se io teatro ne voglio di più di solito si scrive costano 50 centesimi in più a locandina a meno che non lo prevedo a contratto vi posso assicurare che il sistema di contrattoazione tra Roma e Milano è molto diverso da tutto il resto d'Italia perché Roma e Milano sono le città più importanti d'Italia dal punto di vista culturale quindi moltissimi artisti pur di andare a Roma e Milano e far vedere i loro lavori ai critici ai giornalisti agli operatori al pubblico semplicemente vanno ad incasso e i teatri dicono tutte le locandine sono a carico tuo io non ti faccio neanche la distribuzione quindi io gli dovrei inviare mille locandine per far sì che il mio spettacolo abbia un discreto successo immaginate un territorio di 5 milioni di persone dove ci sono non in Puglia ci sono 15 teatri con le residenze teatrali e due stabili di innovazione a parte i teatri comunali a Roma ce ne sono 50 solo nel centro quindi ogni giorno ci sono 20 proposte diverse 100 proposte diverse far sì che il suo spettacolo spicchi rispetto agli altri significa investire un po' di più nella comunicazione quindi questo è molto importante perché in base a dove vai devi capire chi le paga queste cose di solito fino a quello che loro prevedono ne mettono loro ma tutto quello in più lo devi mettere tu diritti obblighi del teatro quindi siamo passati dagli obblighi della compagnia agli obblighi del teatro quindi non è più l'responsabilità tua ma ora diventa responsabilità mia il teatro metterà a disposizione della compagnia il luogo in cui effettuare lo spettacolo in perfetto stato di funzionamento assicurando i servizi generali prestazioni di casa controllo dei biglietti compilazione dei bordero eccetera eccetera e tecnici necessari il teatro provvederà a proprie cure e spese all'ottenimento dei permessi siae e al pagamento dei relativi diritti imposti per le rappresentazioni di quell'articolo 1 l'articolo 1 era quello dove veniva specificato lì che cosa viene a fare che spettacolo a che ora quante recite eccetera eccetera tutte le spese aggiuntive non previste dal presente contratto sono a carico della compagnia che significa questa frase l'ho scritto io il contratto ho previsto quali sono i miei obblighi e i tuoi obblighi se c'è qualcosa che sfugge perché tu non me l'hai detto per bene io già lo prevedo che a carico su lo prevedo ecco perché qui prima ho sottolineato il discorso di essere voi quando potete predisporre i contratti perché se io fossi stato a posto suo avrei scritto tutte le spese aggiuntive non previste dal presente contratto sono a carico del teatro qui è scritto della compagnia se avesse scritto lì probabilmente avrebbe scritto del teatro o no avesse scritto così qualsiasi cosa che non è stata prevista un facchino in più ad esempio se di tardo col montaggio ti serve un aiuto in più qualsiasi cosa 50 locandine che qui non erano previste poi siccome siamo persone e diciamo c'è un rapporto di correttezza di educazione si trova sempre un accordo però tu nel contratto non puoi essere troppo generico devi specificare anche quello che non è specificabile sì vabbè però c'è il paradossore è la compagnia che mette in scena lo spettacolo quindi quindi il teatro che può mai sapere che è quello che serve esatto perché il teatro esatto ma se tu fossi la compagnia in questa frase scriveresti così o il contrario e poi non è vero che dipende tutto dalla compagnia se io ti ho fatto cioè ti ho fatto trovare il teatro chiuso tu mi avevi detto alle 9 te lo apro alle 10 dipende esatto ma quello che ti voglio dire chiaramente chi lo scrive il contratto mette le cose che non sono prevedibili a responsabilità dell'altro per questo è importante e se l'impianto elettrico mio che sono quello che è proprietà del teatro non è adeguato e non è colpa tua se lo spettacolo non può essere capito? ma io te l'avevo specificato nella scheda tecnica sì però metti che c'è stato un problema il giorno prima cioè tu togli le cose che vanno lisce e tranquille tu ti devi immaginare la situazione di difficoltà metti che il mio impianto elettrico ha dei problemi e quindi quando tutti i colleghi salta la corrente lo spettacolo non si riesce a fare tu questa cosa non la puoi non puoi specificare tutto nel contratto però lo devi poter prevedere cioè non è solo colpa e responsabilità della compagnia siccome tu mi avevi assicurato che ci sarebbe stato il funzionamento dell'impianto esatto elettrogeno insomma è competenza tua con il quello che ti sto dicendo che queste sono delle cose come dire facilmente individuabili perché se l'impianto elettrico mio è chiaro che è l'edificio che ha dei problemi se il tuo mixer funziona è evidente si fanno le opportune prove e si capisce che non funziona il tuo queste sono cose come dire semplici da immaginare tu devi immaginare tante altre possibilità cioè che magari non è proprio chiarissimo di chi si ha la responsabilità è chiaro che in sede di scrittura di un contratto io tenderò a dire che quello che non si riesce a prevedere è responsabilità tua e tu il contrario ecco perché è meglio che lo scrivi tu insomma è come mettere le mani davanti esatto esatto perché non tutte le compagnie sono allo stesso livello professionale cioè per diva noi capita noi di solito facciamo trovare il teatro riscaldato cioè non è che tu arrivi alle nove non è che lo accendiamo alle nove perché per riscaldare uno spazio così grande ci vuole almeno un'ora con tutto ciò che noi lo accendiamo un'ora prima proprio per fartelo trovare già caldo ci capita anche che l'artista o il capo tecnico della compagnia ci dica io non monto fa troppo freddo aspetto un'ora noi abbiamo fatto pur di più di quello che non era neanche previsto perché io ti dico che è funzionante non ti dico che ti faccia di riscaldamento lo faccio per correttezza ma tu devi capire che non siamo tutti uguali davanti a una richiesta a un'ipotesi di questo tipo che non è prevista nel contratto e quello magari non inizia lo spettacolo puntuale che cosa fai? è il buonsenso perché non lo puoi prevedere in un contratto ma se per caso dovesse annullarsi lo spettacolo tu devi poter aver definito più possibile quello che sono i punti contrattuali e quella è una cosa guarda che sembra una stupidaggine ma capita capita che un artista un tecnico si imponga comunque è successo anche a teatro quando c'era l'altra ad Antria un'artista è felicitata di recitare perché doveva presentarsi scollata e la latura è data e quindi il teatro non aveva la temperatura anche se era andato però per lei non andava bene e ci hanno rimborsato il biglietto questa è la motivazione ufficiale che è stata data chissà quella vera ad esempio ho ospitato proprio l'altro giorno Danio Manfredini Danio Manfredini è un premio UBU cioè uno dei maestri del teatro contemporaneo che mi ha detto è sempre un piacere scendere giù in Puglia non proprio in tutta la Puglia e mi ha fatto un esempio rispetto a un posto molto vicino ad Andria perché è ad Andria in un festival ad Andria non un bellissimo vabbè lo conosco abbiamo pure collaborato Casaldemondi però nella non chiarezza neanche loro io conosco bene i meccanismi perché abbiamo collaborato insieme a chi organizza il festival e conosco anche le loro competenze e professionalità però loro non avevano la possibilità di definire nel momento in cui hanno contrattualizzato lo spettacolo di Danio Manfredini lo spazio scenico perché non avevano la possibilità di capirlo con il comune e con il service perché poi parleremo di questo domani però io posso quantificare tutto se ho la certezza anche delle mie entrate quindi se il comune mi deve dare 20.000 euro a fronte all'organizzazione di un festival e quindi io so che posso chiamare il service e dirgli voglio un palco di queste dimensioni a questa altezza e invece il comune non mi dice niente quindi io non so se ce l'avrò o meno il palco Danio Manfredini mi dice ma c'è il palco e io dico guarda sì quello poi arriva il giorno dello spettacolo si immaginava una cosa del genere e trova il vuoto allora Danio Manfredini io lo conosco non solo ma essere una persona come dire garbata educata professionale si stava rifiutando di fare lo spettacolo che cosa è mancato secondo il mio punto di vista non perché conosco questi meccanismi e so benissimo che capita ci sono dei progetti in cui gli enti dichiarano determinano gli importi dopo che i progetti siano stati realizzati il comune di Bari oggi siamo a 15 gennaio non ha ancora deliberato i contributi per le attività culturali di tutto l'anno 2014 quindi con progetti fatti realizzati finiti e costi già sostenuti quindi uno si ha speso mille euro ha fatto un progetto gli è stato pure dichiarato idoneo non si sa però quanto deve percepire ho davanti a tutte queste problematiche capisco la situazione dell'organizzatore però è anche vero che forse un colpo di telefono all'artista per dirgli Danio Manfredini scusami siamo in questa situazione perché il comune ancora non mi ha comunicato bene l'importo non so se lo posso realizzare o meno glielo devo dire perché quando tu arrivi se io non te l'ho detto comunque il problema lo devi risolvere allora ci sono mille situazioni diverse e tutti siamo giustificabili però informare l'altro è sempre la miglior cosa perché altrimenti quello arriva si aspetta una cosa e ne trova un'altra si rifiuta di fare lo spettacolo e magari comunque pretende il cachet magari mancata effettuazione o sospensione dello spettacolo punto 5 eccettuati i casi di forza maggiore riconosciuti dalla legge e dalle consuetudini teatrali in caso di inalempimento di una delle parti contrattuali la parte diligente riceverà dalla controparte a titolo di penale comprensiva di un eventuale risarcimento danni la somma che fin da ora le parti concordano e determinano in misura pari al compenso previsto dal punto 2 praticamente l'intero cachet in caso di grave inalempimento qualora la parte dirigente venisse a conoscenza dell'inalempimento non più di 30 giorni prima della data individuata nel presente contratto per l'inizio delle rappresentazioni detta penale verrà raddoppiata salvo ogni eventuale richiesta di risarcimento danni ora nell'ambito del teatro e della danza non capita quasi mai perché il rapporto è fatto soprattutto tra artisti quindi c'è un rapporto umano e professionale di elevato spessore dove ci sono dei rapporti anche di amicizia ma voi immaginatevi nel settore musicale nel settore musicale non c'è un rapporto tra io che organizzo e allora vi ho parlato del concerto organizzato a Molfetta con Giorgia nessuno di noi che abbiamo organizzato il concerto ha parlato mai con Giorgia nel teatro invece noi parliamo con gli artisti con Giorgia ci ha parlato l'agenzia quindi noi ci rapportiamo all'agenzia quindi che significa questo nel caso di uno spettacolo teatrale se per caso e capita capita soprattutto ad esempio con le recite per le scuole se c'è uno sciopero ogni giorno in cui era previsto uno spettacolo figuratevi se i ragazzi come devono andare al teatro chismetro e lo spettacolo decidono di entrare e non fare sciopero probabilmente faranno sciopero mi chiamerà l'insegnante mi dirà guarda scusa Vincenzo purtroppo c'è stata una manifestazione i ragazzi non sono venuti non possiamo partecipare allo spettacolo la compagnia teatrale potrebbe avere il diritto cioè ha il diritto assolutamente di chiederti il casce per intero allora che cosa succede da una parte io devo essere bravo con la scuola per come dire far sì che queste cose si verifichino il meno possibile quindi magari chiedere un acconto perché così almeno recupero una parte dei costi quindi dico a fronte di 1000 euro dammi almeno il 50% prima e io ti blocco la data dall'altra parte devo concordare con la professoressa magari un giorno di recupero in maniera tale che possa dire alla compagnia guarda non è oggi lo facciamo domani o lo facciamo oggi pomeriggio o tra una settimana ora questa è teoria perché se la compagnia viene da Torino scendere per un giorno a Bari e sostenere 3000 euro di costi per avere un cascer di 1000 euro sarebbe da insensati però è chiaro che tu è vero che devi come dire il più possibile prevenire tutto ma non tutto è prevedibile ci sono anche i casi l'abbiamo visto durante le vacanze natale di nevicate davanti a una cosa del genere le scuole chiudono se fosse stato e c'è successo durante l'anno scolastico c'era una recita quello è uno dei casi che viene citato che sono classici maltempo o la neve in caso di scioperi oppure di manifestazioni sindacali è un po' di controverso però lì dipende dal rapporto con la compagnia è la speranza che magari la professoressa in questo caso della scuola che non viene ce lo dice almeno il giorno prima per evitare i più possibili danni allora può esserci un rapporto ottimo con la compagnia sappiate però che almeno i costi vivi che con la compagnia ha affrontato bisogna riconoscerli nel senso che se il cachet è previsto era di 2000 euro non gli darò i 2000 euro ma la notte di albergo il giorno di il passo per quel giorno ai tecnici agli attori li dovrò pagare sicuramente io non posso pretendere non solo di avergli annullato la replica di non avergli dato il compenso ma pure che si devono pagare loro i costi vivi che hanno sostenuto per un giorno in cui non guadagneranno nulla questo anche davanti a un rapporto come dire ottimo se fosse stata la musica sappiate che la musica ad esempio l'agenzia ti chiede l'80% nel caso di Giorgia sei mesi prima cioè alla firma del contratto quando tu non hai iniziato neanche la prevendita e qui bisogna capire poi l'indebitamento quindi tu prendi un impegno in un progetto che quel progetto era di 150.000 euro quindi tu devi mettere mani a portafoglio per 100.000 euro sei mesi prima e in quel caso se tu non versi non ti arriva il contratto firmato e soprattutto quando poi inizia la prevendita in base a quanti posti vendi devi dargli il saldo perché loro i soldi li devono avere prima che Giorgia arrivi a Bari altrimenti il concerto non parte neanche neanche l'allestimento più grandi importanti sono gli artisti non è più l'agente adesso chi produce Giorgia è un'agenzia che ha l'esclusiva su determinati artisti quindi i nomi di quel livello lì cioè Giorgia sono 40 anni 30 anni che comunque è sulla cresta dell'onda per averli tu devi avere la possibilità di avere una liquidità e poter anticipare importante Giorgia non parlo di Vasco Rossi assolutamente sì altrimenti loro non ti firmano neanche il contratto andiamo da un minimo ma infatti le grosse agenzie molto spesso producono direttamente i grossi artisti qui quindi ti chiamano per la manovalanza perché fare Vasco Rossi non c'è nessun operatore culturale locale che potrebbe permettersi per un progetto come quello di Vasco Rossi che è di qualche milione di euro di anticipare in tasca propria qualche milione di euro infatti è una cosa pubblica tanto stava scritto sui giornali un'impresa come la Delta Concerti ha avuto mille difficoltà perché per procurarsi la liquidità so che ha dovuto fare come dire dei documenti di un certo tipo sono gli ultimi quattro punti tra l'altro velocissimi modifiche punto 6 ogni modifica presente contratto sarà valida soltanto se risultante dalle norme definite dalla legge 675 slash 96 e successivi decreti legislativi questo è uno dei casi in cui vi invito ad andare a leggere che cosa dice quando dice avete un contratto comunque si riferisce al codice civile quindi tante cose legate al mondo del lavoro e quant'altro vado velocissimo clausole aggiunte punto 7 il regolamento collettivo tra i settori della produzione e l'istributore teatrale è sottoscritto in sede Agis l'Agis è l'associazione generale italiana dello spettacolo che è l'associazione di categoria degli operatori dello spettacolo dal vivo con ogni suo aggiornamento si intende parte integrante del presente contratto e adesso i contraenti dovranno riferirsi per tutto quanto non è espressivamente previsto in questo atto mi spiego meglio quando dico associazione di categoria dico che siamo noi siamo noi gli operatori culturali quindi ci sono 10 teatri in Puglia 10 teatri in Molise 20 teatri nel Lazzo 50 teatri in Lombardia ogni regione tra gli operatori quindi i professionisti del settore elegge come per voi il capoclasse quindi elegge un suo rappresentante che poi ogni mese si vede con gli altri rappresentanti di altre regioni e fanno un comitato questo comitato in sede Agis definisce un accordo che dovrebbe soddisfare sia le richieste delle compagnie sia le richieste dei teatri essendo operatori dovrebbero conoscere benissimo la materia e quindi anche perché non è che tu sei obbligato a stare dentro l'associazione Agis potresti fare questo lavoro e non essere mai iscritto all'Agis quindi quel rappresentante non è il tuo rappresentante quindi qua si fa riferimento siccome noi ad esempio siamo associati in questo caso all'Agis ha questo accordo fatto il sede Agis tra chi gira con gli spettacoli e chi acquista spettacoli e quindi ha uno spazio in cui si è definito tutto come dire rispetto al rapporto tra acquidente e contraente poi dichiarazioni punto 8 la compagnia dichiara che il compenso pontuito rientra nel limite dell'articolo 2 come a 2 previsto dal decreto 12 novembre 2007 questo è un decreto ministeriale in cui ad esempio in questo articolo è previsto che gli spettacoli che devono essere riconosciuti a livello ministeriale ma ne parleremo dopo che significa riconosciuti cioè dopo domani in serie di progetti di bandi perché sono i finanziamenti del fondo unico per lo spettacolo devono essere al massimo di 12 mila euro se fosse superiore ai 12 mila euro il ministero non te lo riconosce tra le recite che tu vai a dichiarare di aver fatto giurisdizione per ogni e qualsiasi controversa derivante dal presente contratto foro competente sarà quello di quello che vi dicevo prima se lo scrivo io il contratto per avere meno spese processuali scriverò che il foro è quello di Bari nel caso vostro sarebbe quello di Trani se ho una compagnia di Verona che viene a Chismet mi scriverà che è di Verona ma se il contratto l'ho scritto io è chiaro che metterò Bari però se sapete che significa che se per caso se c'è una causa e tu devi andare a Verona è un avvocato di Bari l'avvocato di Bari deve contattare un avvocato di Verona che deve fare deve praticamente adottare la causa e gestirla che significa raddoppiare i costi per questo è importante che lo facciate voi il contratto il più possibile così queste piccole cose le scriverete voi deciderete voi dove e come inserirle e poi c'è la clausola sulla Pravis il teatro dichiara di utilizzare anche per il tramite di collaboratori esterni i dati personali esclusivi per finalità amministrative e contabili anche se comunicati a terzi cioè io devo comunicare all'agenzia delle entrate al fiscolo al consulente chi la fattura di questa compagnia quindi devo averlo che la parte tua farà divulgare questa informazione questa è una norma inutile quella della privacy che però ormai esiste da una decina d'anni ma il luogo che lo assicura anche a terzi la compagnia il il luogo dove si si tiene lo spettacolo il teatro l'acquirente io ti chiamo e ti dico vieni in questo luogo infatti sono io che lo specifico non posso non dirtelo dove devi fare lo spettacolo no 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 parla a livello di assicurazione su terzi cioè su se succedesse un problema chi ne risponde la responsabilità è di chi gestisce lo spazio è obbligato ad avere una responsabilità civile verso terzi quindi un'assicurazione che assicuri anche questo spazio sicuramente è un'assicurazione se lei dovrebbe inciampare e farsi male dovrebbe esserci un'assicurazione che copre tutti i visitatori dello spazio in sé oltre che le compagnie o gli artisti va bene ben ritrovati riprendiamo salutiamo i ragazzi che sono in diretta in diretta streaming e continuiamo con Vincenzo fino ad ora abbiamo parlato del rapporto tra i teatri luoghi di spettacolo quindi gli organizzatori e le compagnie di teatro di danza ma anche di musica che invece vengono chiamate a fare una rappresentazione teatrale ora ognuna delle due ha dei dipendenti e ognuna delle due ha la responsabilità del rapporto di lavoro dei propri dipendenti sia a livello economico sia a livello previdenziale e sia a livello anche assicurativo nel senso infortuni sul lavoro e quant'altro intanto a precedere da questo chi gestisce uno spazio aperto al pubblico ma da negozio a uno spazio di pubblico spettacolo deve essere dotato di un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi perché se lui si fa male perché si rompe la sedia ci deve essere un'assicurazione che che gli garantisca il giusto risarcimento per quanto riguarda i dipendenti chiaramente tu quando fai un contratto di lavoro e assumi qualcuno gli stai dicendo fondamentalmente che cosa uno la paga giornaliera che gli spetta nel nostro caso paga giornaliera perché non tutti hanno un contratto a tempo determinato o indeterminato in quanto organizzatori gli altri gli artisti dei tecnici vengono chiamati in base all'occorrenza quindi se io ho dieci giornate di spettacolo gli attori e i tecnici di quelle dieci giornate vengono contrattualizzati da quel giorno a quel giorno quello è un po' che vi dicevo prima nel momento in cui contrattualizzo te domenico tacchio viene assunto dal chisme dal 15 gennaio al 31 gennaio stabilisco che cosa fondamentalmente quanto gli do all'ordo dell'imposta a carico del lavoratore cioè io non stabilisco quanto è il suo netto quello lo stabilisce come dire il fisco io stabilisco che gli do 100 euro l'orde al giorno gli oneri a carico del lavoratore che sono solitamente il 10,10% rispetto ai contributi ex-empas che ora sono IMS sono a carico suo io faccio da tramite perché li trattengo e li verso con l'F24 però sono a carico suo quindi se dovesse aumentare quella aliquota non è che aumenta la mia paga diminuisce il suo netto in busta quindi se da 100 euro gli devo trattenere il 10% e lui prende 90 euro se domani mi dicono che quella aliquota diventa il 12% vuol dire che io gli devo trattenere 12 euro e lui ne percepisce 88 quindi sono a carico del lavoratore poi ci sono gli oneri a carico dell'azienda che sono il credo 23 circa 24% della differenza dell'IMS che è ex-empas scusate questo gioco però l'empas è sparita un paio d'anni fa poi ci sono gli oneri inail che sono a carico dell'azienda in caso di infortuni sul lavoro poi ci sono come dire quelle imposte che non vengono pagate al momento in cui ti pago ma che comunque sono il compenso che ha un lavoratore ad esempio è imponibile IRAP che è un altro tipo di imposta non è un onere ora quando io vado a scritturare lui che cosa succede fondamentalmente nel mio piano progettuale definisco che sto scritturando un attore per 10 giorni gli faccio firmare un contratto come vi ho detto deve essere almeno in dubbice copia perché una copia la devo avere io una copia la deve avere lui e entrambi la devono avere sottoscritta perché se lui ha una copia firmata da se stesso ma non da me non vale nulla quindi devono essere sottoscritte da entrambi le parti e devono essere definite alcune cose fondamentali tra cui i giorni di impiego i luoghi e soprattutto la paga quella paga è quello che poi viene trovato in busta paga dove viene definito quanto percepisce per ogni giornata quindi le sue aspettanze dopodiché ci sono degli accordi che prevedono in caso di trasferta quanto un lavoratore deve avere in base alla distanza a cui va quindi c'è una diaria si dice così forfettaria che va a coprire tutti i costi di vitto e alloggio e nel caso in cui ci siano anche i costi di trasporto di solito sono a carico dell'azienda che o gli fornisce un mezzo aziendale oppure gli paga il diglietto del treno del volo oppure del pullman semplicemente puoi decidere se dargli la diaria a forfettare oppure dire guarda sostengo io il costo dell'albergo e anche il costo del ristorante però chiaramente non deve andare sotto certi livelli ora un settore atipico come quello dello spettacolo perché è atipico in sé perché può capitare benissimo che un attore venga scritturato ve l'ho detto prima un giorno al mese per 12 mesi consecutivi e magari non andare in un solo luogo oppure essere scritturato 10 giorni consecutivi e fare un giorno a Bari un giorno a Roma un giorno a Firenze e quant'altro tutto questo e può anche può anche capitare che faccia 12 recite consecutive senza avere un giorno di pausa questo è possibile perché il contratto è un contratto di scrittura quindi quante giornate lavora l'attore o il tecnico tante giornate io lo scritturo vuol dire che questo può essere non considerato un contratto a tempo determinato in quanto può essere ripetuto per tutta la vita il contratto a tempo determinato è dato da quel contratto in cui una persona è obbligata a lavorare tot ore tot giorni per tot mesi per un periodo di tempo che mediamente che deve essere al massimo di 36 mesi altrimenti si trasforma a tempo indeterminato dove c'è una mansione specifica e un ruolo specifico lui che è un attore teatrale viene chiamato soltanto quando il suo spettacolo che prevede la sua presenza va in scena perché altrimenti non avrebbe senso quindi si chiama contratto di scrittura in definitiva non è altro con le dovute differenze che il contratto che usano gli agricoltori che vengono chiamati così aggiornata è ad esempio quelli che lavorano nel campo dell'edilizia una delle cose più particolari del nostro mondo qual è? ad esempio tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo sono lavoratori precari quasi tutti le figure artistiche oggi magari hanno un contratto con 100 giornate a 1000 euro al giorno per due anni consecutivi potrebbero non lavorare per niente o per motivi di salute o perché magari alla gente non piace più il lavoro che fa o semplicemente perché non è riuscito a trovare qualcuno che gli permettesse di lavorare ma quindi anche chi ha un'impresa idile può assumere aggiornata chiama gli operai aggiornata dipende dal tipo di operario perché ci sono anche quelli che invece sono coordinatori quindi corrisponderebbe al nostro livello organizzativo che chiaramente è un lavoro come dire organizzativo e quindi molto più inquadrato a livello tempistico io sto parlando di quelli che vanno nei cantieri in questo caso per noi sarebbero quelli che vanno a fare gli spettacoli quindi soprattutto attori musicisti danzatori e tecnici che cosa succede qual è la particolarità ad esempio in Francia ci fu qualche anno fa credo una decina di anni fa una ribellione quasi una rivoluzione da parte di tutto il settore appunto degli artisti di spettacolo dal vivo perché il governo francese aveva deciso di eliminare il sostegno al reddito essendo noi lavoratori precari la maggior parte degli attori e dei tecnici non hanno una continuità lavorativa che gli possa garantire un reddito dignitoso per poter dare la paghetta a lui che non c'è e quindi chiedono all'Inps come dire un sostegno al reddito che si chiama disoccupazione prima si chiamava disoccupazione requisiti di doti adesso si chiama in un altro modo ASPI o mini ASPI che cosa significa? siccome il contratto collettivo nazionale del lavoro è praticamente quello degli operari e degli agricoltori però la legge riconosceva solo a loro così come agli insegnanti gli insegnanti che non avevano una cattura quindi non avevano un'assunzione a tempo indeterminato quando stavano fermi nei mesi estivi ricevano indennità di disoccupazione il settore dello spettacolo è atipico perché l'attore viene considerato intellettualmente di elevato spessore e quindi viene paragonato a un libero professionista che significa che non può avere un rapporto subordinato e quindi non ha diritto alla dirittà di disoccupazione ora dire che un attore che percepisce la paga minima giornaliera che equivale più o meno a 45-50 euro nette sia un professionista del calibro di uno scienziato o di benigni come dicevamo prima perché intellettualmente fa un lavoro di un certo tipo e considerarlo per questo non una persona che ha diritto al sostegno al reddito significa praticamente fare una discriminazione sociale su chi può fare il creativo e l'artista in questo paese e chi no perché se io sono ricco in una famiglia che mi consente di poter fare questo lavoro lo faccio posso non percepire lo stipendio posso lavorare pochissimo ma c'è qualcuno che mi finanzia se invece io sono un povero Cristo vengo da una famiglia assolutamente normale e ho bisogno di lavorare davanti a una situazione del genere posso avere un talento enorme ma non sono messo nelle condizioni veramente di poter mettere di poter costruire il mio percorso professionale nell'ambito artistico questa è la discriminante ed è quello che sta accadendo in questi anni ora la prima cosa che dovete verificare rispetto a questo ad esempio è capire se chi vi ha assunto versa all'Inps quella parte quella piccola percentuale in più all'Inps che dà la possibilità poi ai dipendenti della stessa di chiedere indennità di disoccupazione oppure adesso si chiama aspi o mini aspi questa è una cosa che non chiede nessuno però fatelo perché molti pensano di avere diritto in automatico ma in realtà se le ditte le imprese per cui hanno lavorato non le avessano in automatico non hanno alcun diritto questa è la prima cosa da verificare seconda cosa da verificare che cosa succede quando io firmo un contratto con un'impresa di spettacolo l'impresa di spettacolo deve fare tre comunicazioni una comunicazione al collocamento una comunicazione all'Inps sbarra Inps perché devono sapere chi è stato assunto e dov'è e una comunicazione all'Inail queste sono tre cose che fa il datore di lavoro dopodiché prima dell'assunzione dovrebbe provvedere a farvi fare la visita medica di cui vi ho parlato prima ora in un settore appunto dove l'80% delle attività vengono fatte da attori e tecnici scritturati ipotizzare di fare ogni volta che fai uno spettacolo prima e dopo la visita medica è impensabile perlomeno noi ad esempio ci siamo attrezzati lo sto dichiarando in diretta streaming non so quante decine di persone ci siamo organizzati in questo modo all'inizio della stagione facciamo le visite mediche a tutti i nostri attori e tecnici e poi rifacciamo quelle di uscita al termine della stagione considerate che una stagione teatrale più o meno parte a ottobre e termina a maggio noi la facciamo ad anno solare quindi iniziamo a gennaio facciamo le visite mediche provvediamo alle assunzioni e chiudiamo a dicembre facendo le visite mediche come dire post perché lui deve essere deve essere arrivato sano e se ne deve andare sano ma quindi questi attori vengono assunti a est stagione e poi mandati in disoccupazione non vengono mandati in disoccupazione siccome è un contratto aggiornata in pratica nel momento in cui si chiude il contratto tu sei temporaneamente disoccupato quindi non è che vengono mandati in disoccupazione sono in automatico disoccupati perché il contratto è cessato questo contratto che dà appunto vita a un rapporto di lavoro poi dà appunto vita a una busta paga la busta paga non è altro che un riepilogativo dove c'è scritto chi ti sta dando i soldi quindi tutti i dati del datore di lavoro tutti i dati di quello che lo riceve con tutti i codici IMS codice fiscale e quant'altro l'ABC dell'essere artista non è altro che l'ABC di essere una qualsiasi persona voi sapete che ognuno di noi ha un codice fiscale sapete a che serve quel codice fiscale è un cassetto virtuale dove va a finire tutto quello che vi riguarda rispetto appunto a entrate e uscite relative appunto al mondo del fisco nel senso che deve nel momento in cui si aprisse questo cassetto dove c'è il suo codice fiscale dovrebbe esserci tutto quello che lui ha dichiarato a livello di reddito e a livello appunto di costi sostenuti che poi sono andati in detrazione oppure in deduzione del tuo reddito quindi è una come dire un codice che è tatuato sulla vostra pelle che vi portate praticamente dalla vostra nascita alla vostra morte per tutta la vita e ce l'avete lì e chiunque può verificare all'interno di quel codice che cosa c'è detto questo il codice identificativo codice fiscale del dipendente la matricola del dipendente gli stessi dati rispetto al datore di lavoro il numero delle giornate in maniera tale che uno possa verificare se io ho firmato un contratto di 20 giornate ci sono 20 giornate riportate in busta se nella busta paga c'è scritto che ogni giornata di lavoro corrisponde un compenso di 100 euro l'orde giornaliere c'è scritto anche questo in busta paga o c'è un'altra paga cioè uno dovrebbe cosa che vi assicuro che non fa quasi mai nessuno per questo ve la sto sottolineando ricordarsi o guardare che cosa c'è scritto sul contratto e poi verificare che la busta paga corrisponda che è quello che era stato firmato prima dopodiché c'è il calcolo di quanto l'azienda deve darti e poi in base al luogo di residenza in base all'appunto perché le tasse comunali ad esempio variano da comune a comune chi paga le tasse ad Andrea ha l'IRPEF comunale che è diversa da quello che abita a Bari quindi io non posso da attore di lavoro sapere quanto esattamente lui percepirà di netto perché le tasse ad esempio variano da regione a regione noi abbiamo attori che magari provengono da altre regioni alcuni addirittura vengono da altre nazioni quindi le tasse che vengono applicate in quella comune o in quella regione sono diverse da quelle che vengono applicate a Bari nella regione Puglia l'altra cosa è se io ho figli persone a carico deve esserci scritto busta paga cosa viene applicato in base a quello che io ho dichiarato quindi se ho due figli a carico se ho mia moglie a carico eccetera eccetera perché fa abbassare l'imposta al tuo carico e quindi il tuo netto è più alto alla fine c'è un riepilogativo dove c'è il calendario con le giornate del mese e le X che dicono che quel giorno tu hai lavorato perché è importante quello perché tu devi verificare vedi il numero vedi le giornate rispetto al contratto se corrispondono e se ci sono i riposi di cui tu hai diritto dopodiché c'è il netto in busta il netto in busta è quello che tu hai e dovresti ricevere come stipendio con un assegno con un bonifico alla fine del mese o all'inizio del mese successivo se questa cosa è andata bene tu hai chiuso il rapporto di lavoro per quel periodo sappiate che poi alla fine dell'anno c'è una busta paga di conguaglio ora sembra complicato però voi immaginatevi non per una una persona che lavora in maniera continuativa con un qualsiasi datore di lavoro immaginatevi lui che lavora dieci giorni al chismet a gennaio mentre una persona che lavora in maniera continuativa quando vengono inseriti i dati il calcolo del reddito mensile può essere in maniera abbastanza attendibile come dire simulato perché negli altri mesi lavorando ogni mese al chismet è facile immaginare che 26 giornate sono a gennaio 26 giornate sono a febbraio 26 giornate sono a marzo quindi il calcolo che io vado ad applicare non è solo simulabile è quasi preciso a fine anno comunque c'è una busta paga di conguaglio se ci sono differenze tra quello che ho versato e quello che invece avrei dovuto versare immaginatevi invece per uno scritturato uno scritturato percepisce nel mese di gennaio 2000 euro perché ha lavorato tutti i giorni a una paga anche importante no? la macchina questi sono i problemi dei consulenti del lavoro e dei calcoli che uno deve fare la macchina quando legge che nel mese di gennaio ha lavorato 26 giorni a 100 euro l'orde al giorno e quindi ha avuto un reddito di 2000 euro giustamente in base a chi ha impostato questa logica dice ok se ha percepito 2000 euro a gennaio li percepirà anche a febbraio a marzo aprile a maggio quindi simula e applica le percentuali di imposte sulla sua persona della busta paga di gennaio su un reddito presunto che è di 2000 euro per 12 mesi quindi non vi dimenticate che a dicembre dovete ricevere un'altra busta paga di conguaglio che è positiva o negativa o in serie di dichiarazione dei redditi perché ogni datore di lavoro l'anno successivo di solito avviene tra febbraio e marzo deve mandare ai propri dipendenti il CUD che è il riepilogo di quello che è stato fatto nell'anno precedente per poter permettere al lavoratore di fare la propria dichiarazione dei redditi in quel caso se sono stati versati i pioneri di quelli dovuti lo Stato ricalcola tutto in base alla dichiarazione dei redditi e ti restituisce dei soldi quindi se qualcuno vi dice che vi ha assunto però non vi ha dato la busta paga magari vi hanno pure pagato ma non vi è arrivata la busta paga non vi è arrivato il CUD a febbraio dell'anno dopo probabilmente non vi ha mai assunto può succedere pure questo siccome sono cose che poi vanno a toccare la vita personale individuale di ognuno di voi le dovete sapere perché questo significa lavorare a nero tra l'altro senza saperlo ora nel mondo dello spettacolo come ci siamo detti prima il mondo dello spettacolo è basato fondamentalmente su contributi pubblici un'azienda sana cerca di utilizzare il fondo pubblico vi ho detto prima che un euro investito in cultura dovrebbe moltiplicare per 4-5 euro poi il volume d'affari quindi se io ricevo un euro dal comune di Andria dovrei poter sviluppare almeno 5 euro 5 euro che tu sviluppi direttamente o indirettamente che significa che un euro meno del comune di Andria quell'euro io lo spendo perché pago lui lui poi lo spende perché paga l'albergo l'albergo lo spende perché chiama la lavanderia per lavare i cuscini e le lenzuola della sua camera poi lui va al ristorante il ristorante c'è tutto in indotto però un'azienda sana culturale dovrebbe perlomeno riuscire a far sì che quei contributi pubblici sviluppino almeno un 60-70% di fatturato in più che significa che ogni mille euro di contributo pubblico dovrebbe sviluppare un bilancio un volume d'affari almeno di 3.000-4.000 euro se non è così e mille euro di contributo pubblico sviluppa mille euro di fatturato quindi entrano mille euro escono mille euro vuol dire che non è un'azienda sana perché basa tutto il suo lavoro soltanto ed esclusivamente su contributi pubblici quindi non sviluppa non sviluppa un euro ricevo un euro spendo quello un modo di gestire un'azienda ha sbagliato vuol dire che non stai sviluppando mercato non stai sviluppando lavoro e stai spendendo i soldi probabilmente solo su te stesso quindi tu stai chiedendo praticamente un sostegno al reddito senza chiederlo perché stai chiedendo a chi produce cultura di pagare lo stipendio di chi sta facendo lo spettacolo invece tu devi far sì che quell'euro sia un investimento non un costo questo lo sto dicendo mentre parliamo di contratti perché se un'azienda culturale non lavora in questo modo probabilmente chi lavora per quell'azienda ci lavorerà pochissimo tempo perché poi verrà manata a casa ne prenderanno un altro e probabilmente non sarà in grado neanche di pagarvi quel compenso nei tempi giusti ora nel momento in cui un'impresa culturale fa una richiesta di finanziamento scusate ora mi devo spostare un po' rispetto all'argomento perché va a toccare la vita dei lavoratori perché come vi ho detto prima sono quasi tutti soci lavoratori quando tu vai a presentare un progetto ci sono degli avvisi pubblici che non prevedono neanche questo ma stiamo parlando di piccole cose se io presento un progetto al ministero o alla regione o al comune gli sto dicendo e gli sto chiedendo un contributo a fronte di un progetto che è magari di un milione di euro ho trovato entrate per 800 mila euro ti chiedo di coprirmi la differenza quindi ti chiedo 200 mila euro di coprirmi quel deficit ora un bilancio di un'azienda culturale è fatto per lo più del 70-75% di costi del personale perché immaginate io faccio spettacoli produco spettacoli di teatro quindi spettacolo dal vivo è chiaro che quando faccio una produzione teatrale lavoro soprattutto con le persone un'azienda che sappia gestire il rapporto con le persone ed è un'azienda importante deve avere per forza di cose un responsabile personale perché vi ho detto prima che l'attore fondamentalmente è ignorante legge che ne so Natale in casa Cupiello un milione di volte ma non legge mai che cosa dice l'agenzia dell'entrata che deve fare la presentazione semplicemente la dichiarazione dei redditi che mia nonna sa fare mia nonna va al caff e la fa come la farà vostra nonna vostra madre un attore probabilmente ha bisogno del babysitter e non lo sa fare l'attore è anche come dire il creativo in sé non si occupa mai di queste cose perché nella sua cultura occuparsi di cose che hanno a che fare con i soldi o con le tasse o con l'imposto è sempre come dire una cosa molto meno importante però vuole avere i diritti come tutti gli altri quindi chi si occupa dell'organizzazione di qualcuno che produce spettacolo dal vivo che sia musica danza o teatro si deve occupare anche di gestire i personali in questo modo qui quindi facendogli anche da mini consulente oltre che da psicologo questo perché come vi ho detto prima se l'attore non è tranquillo il regista non è tranquillo rischi che lo spettacolo non venga è anche una questione egoistica oltre che meditoriale non venga fatto nel modo giusto allora vi posso assicurare che l'80% delle imprese culturali non fanno firmare i contratti prima vanno in automatico cioè tu vieni chiamato da una compagnia la compagnia neanche te lo fa vedere ti scrittura forse si ricorda alla fine di farti firmare il contratto perché gli artisti tendono sempre a non occuparsi di queste cose a meno che non ci siano figure non so se l'avete mai visto dai tre come Antonio Rezza io lo porto sempre come sempre quando mi capita di parlare di queste cose Antonio Rezza vi invito a venirlo a vedere ad aprile al Kismet è un pazzo segue tutto Rezza Mastrella è una coppia uno è scenografo e cura gli allestimenti e l'altro invece l'attore e l'autore ma loro anche se hanno una compagnia comunque curano tutto in maniera maniacale dall'inizio alla fine dal contratto tra la compagnia e teatro il contratto di assunzione personale tutto e gli spettacoli che fanno sono di altissimo livello e vi invito ad andare a vedere su Youtube uno dei loro spettacoli perché così capite di che cosa sto parlando perché vedete proprio come dire un talento messo in scena a produrre uno spettacolo che probabilmente non avete mai l'occasione di vedere però lui è proprio il classico artista ad esempio che segue anche tutte le sue pratiche non ha bisogno di una figura che lo affianchi però vi posso assicurare che quasi tutti snobbano questa parte per poi lamentarsi che non hanno tutte le idee chiare non hanno capito allora ad esempio la mia logica è quella di fare delle riunioni settimanali in cui ogni volta che facciamo uno spettacolo spieghiamo punto per punto come ci comportiamo rispetto appunto ai lavoratori scritturati quanto li spetta dove devono andare a dormire quanto se devono tornare a casa se hanno diritto o meno al rimborso del viaggio gli faccio firmare i contratti gli dico quali sono i suoi diritti i suoi doveri ma soprattutto loro devono avere più o meno la chiarezza di quanto devono percepire alla fine del mese perché sappiate che per quanto sia strano il contratto per quanto non sia proprio prevedibile e facile calcolare un netto perché vi ho detto prima ci sono migliaia di possibilità l'attore vuole sapere ma alla fine del mese questi dieci giorni quanto mi porta a casa 500 euro 1000 euro devi avere la possibilità anche di dirglielo questo non sta né in cielo né in terra perché chiunque di noi abbia lavorato con qualcun altro sa che sono tutte sue responsabilità una volta firmato il contratto è quello quando tu invece produci uno spettacolo dal vivo non stai assumendo semplicemente qualcuno perché come vi ho detto prima tu sei una sorta di casa e quando accogli qualche parente diviene anche lui non è un solo semplicemente un ospite è qualcuno che con te ha parecchia e sparecchia mette in ordine la casa perché se lui non lavora bene lo spettacolo che tu hai prodotto non funziona e non è che ci rimette solo lui ve l'ho detto prima siamo tutti nella stessa barca di una produzione ci rimetto anche io perché probabilmente se lo spettacolo non funziona con lui in scena difficilmente avrò la possibilità di farne un altro perché altri teatri non mi chiameranno più quindi non sto dicendo che bisogna coccolarlo sto dicendo però che il suo problema diventa anche il tuo è questa la cosa che varia rispetto alla figura di organizzatore di produzioni di spettacoli dal vivo rispetto a tutto il resto dell'imprenditoria il fatto che tu devi avere la consapevolezza che questo fa parte del tuo ruolo d'altre parti non esiste che io mi devo preoccupare di farti la dichiarazione dei redditi di trovarti il CAF o di dirti hai trovato tutti gli scontrini della farmacia eccetera eccetera una domanda prima parlavi nel caso di una compagnia etatrale che possa essere come figura legale un'associazione no? mettiamo così e dicevi quindi questa figura legale dovrebbe per assumere un attore dovrebbe avvisare prima il collocamento poi no lo comunica non è che lo avvisa proprio una comunicazione ufficiale ok poi l'Inps l'Inai per la visita medica per esempio se io devo fare una produzione con questo attore che faccio fare la visita medica all'attore di regola sì e il medico mi deve rilasciare la ricevuta che ha fatto questa visita medica all'attore e la paghi tu e la paga la compagnia oltre a questo no la compagnia l'associazione quando parlavi poi di l'associazione quando viene in questo caso che è la rappresentanza regale della compagnia deve portare l'agibilità Enpals ci puoi parlare di che cosa consiste questa agibilità praticamente l'agibilità Enpals che cos'è un foglio enorme un elessimo foglio che poi non legge nessuno in cui ci sono scritti tutti i dati delle persone che sono assunte in quel giorno mi spiego il teatro sospeso viene al chismet io il giorno prima gli dico ricordati di portarmi l'agibilità che cosa faccio io in realtà quando lui arriva e mi dà l'agibilità Enpals che adesso è ex Enpals prendo e guardo tutti i nomi delle persone e li dovrei confrontare con la locandina per capire se quelle persone che sono assunte sono veramente gli attori che stanno nello spettacolo chiaramente nella locandina non ci sono dei nomi come dire messi così ci sono i nomi di quelli che sono veramente in scena quindi se c'è un nome che varia dovrei chiedere sì 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 però prego prego ciao arrivederci ma perché sono arrivate le 5 sono le 5 però possono tirare avanti il quarto perché ho iniziato il quarto allora l'agibilità Enpals che cos'è non è altro che un foglio repilogativo dove ci sono tutti i dati degli attori e tecnici scritturati che tu dovresti consegnare al teatro che ti ospita ma non è per quello il motivo soltanto perché se tu lo fai a casa tua lo spettacolo dovresti comunque avere fatto le assunzioni e quindi avresti dovuto ricevere dall'Enpals questo foglio repilogativo che si chiama agibilità ci sono tutti i dati anagrafici il luogo in cui tu fai spettacolo la qualifica per cui stai lavorando quindi se sei un attore un tecnico un scenografo e la data e il luogo dove la data del giorno in cui c'è la recita e il luogo in cui stai facendo la recita si posso inserire adesso sì adesso sì con la matricola dell'Enpals accediamo questa è una cosa che fa il consulente del lavoro ad esempio è una cosa che fa il consulente del lavoro allora prima perché siamo passati un attimo a parlare dei contributi poi ne parleremo domani su progetti e quant'altro perché io percepisco dei contributi per percepire dei contributi devo raggiungere dei parametri per raggiungere quei parametri devo avere dei documenti che dimostrino che io ho fatto l'attività che ho dichiarato di fare tipo avere che ne so 100 recite presso il mio teatro per come dire dimostrarlo all'ente che mi ha dato un contributo ho tutto l'interesse a fare le cose per bene quindi ad avere 100 agibilità in pass una per ogni recita perché poi gliela devo dare 100 borderò che sarebbero le distinte di incasso della SIAE che poi gli devo consegnare quindi solitamente un professionista non ha nessun interesse al fatto che le cose non vengano fatte nel modo giusto perché è l'unico modo che io ho per dimostrare all'ente che mi ha dato un contributo che la cosa che ho scritto la sto facendo prima dicevamo che ci sono stamattina dicevamo dei fabbricatori di carte vi è mai capitato di sentire al telegiornale quando dicono scoperta maxitruffa all'Inps per ricevere l'indenità di disoccupazione finta cooperativa di agricoltori hanno percepito milioni e milioni di euro quelli sono i fabbricatori di carte che ti fanno tutte queste cose fatte per bene ma la recita magari non si è mai svolta consentono però a chi ha chiesto il contributo di ricevere il contributo in quanto hanno tutte le carte a posto ecco perché io dico sempre diavolo però almeno una volta ogni tanto il funzionario dell'ente della regione o del comune o del ministero qualche volta si può fare una passeggiata e verificare di persona che cosa sta succedendo perché a fabbricare le carte se sei bravo potrebbe potrebbe essere abbastanza semplice il problema è che poi deve corrispondere a un progetto che realmente sta realizzando oggi lui poteva dire che ha fatto una recita qui sopra ce l'ha pure il pubblico e dichiarare con l'agibilità Enpal se un bordero sai che c'era in realtà non è andata così però non lo sa nessuno allora fabbricare le carte significa poi praticamente truffare chi invece fa le cose per bene ecco perché io dicevo io lo faccio ma dovrebbe essere proprio nei regolamenti ad esempio dei bandi che tu devi documentare con dei video e devi documentare con una rassegna stampa quello che hai fatto perché poi chi è coinvolto in questa cosa anche il personale stesso potrebbe anche a sua insaputa essere come dire coinvolto in una cosa del genere ecco perché alcuni vi dico che non danno neanche i contratti e forse non gli danno neanche la busta paga perché c'è molta leggerezza invece siccome un artista è un essere umano come tutti gli altri deve pagare le tasse deve fare il suo dovere deve essere come dire un cittadino onesto deve controllare che quello che lui sta facendo venga fatto in modo giusto e che quello che sta facendo l'impresa per cui lavoro venga fatto in modo giusto invece ed è così ve lo posso assicurare quasi tutti snobbano la materia assolutamente e quindi non esercitano neanche il diritto di controllo per capire se la cosa sta andando nel modo in cui loro avevano definito soprattutto che poi venga fatto mi è capitato l'altro giorno che un mio tecnico mi ha detto che era stato assoluto da un'altra cooperativa e a sua insaputa era socio di quella cooperativa perché chiaramente il socio lavoratore dà come delle agevolazioni rispetto al lavoratore normale mutualità prevalente quant'altro non ci sono commercialisti altrimenti la mutualità prevalente che cos'è se tu è una cooperativa dove il 51% delle retribuzioni sono date dal lavoro dei soci lavoratori la cooperativa sulle tasse ha una come dire uno sgravio tipo del 25% faccio un esempio quindi quindi questi che facevano assumevano i lavoratori senza dirglieli li facevano diventare soci in maniera tale che diventavano una mutualità prevalente e quindi avevano delle agevolazioni ma il lavoratore non lo sapeva eppure risultava socio allora siccome non tutti siamo onesti non tutti siamo corretti siamo noi individualmente che dobbiamo essere bravi a capire se quello che sta succedendo è fatto nel modo giusto o no ma questi attori che venivano assunti questo era un tecnico praticamente firmavano il contratto a giornata sì pensavano di firmare il contratto no no loro allora non è un problema il contratto il problema è che tu sei diventato socio che è un'altra cosa tu sei dipendente contestualmente loro per raggiungere un parametro fiscale hanno falsificato una carta dove hanno messo una firma falsa e hanno fatto trasformato quel rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro non con un dipendente e basta ma con un socio lavoratore che dal punto di vista fiscale del lavoratore non cambia ma il problema è che tu non gliel'hai detto allora qual è la leggerezza che siccome lui per primo non si era interessato a chiedere il contratto a chiedere la busta paga alla fine si è ritrovato dopo sei mesi a scoprire questa cosa qui anche l'hanno nemmeno fatto firmare a lui no 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 c'è molta guarda adesso sono pochissime le imprese culturali dove c'è una figura artistica e una figura organizzativa che si occupa di queste cose pochissimi ma proprio pochissimi in Puglia ce ne saranno un paio il Kismet e forse Coreia a Lecce gli altri hanno come dire delle persone che si mettono e cercano di fare il meglio possibile poi ci sono quelli che invece volontariamente sbagliano perché gli interessa sbagliare però siccome i soldi sono pochi il lavoro da fare è tanto si lavora di salto la domenica si lavora di notte si lavora il giorno di Natale chiaramente è complicato portare avanti tutto e permettersi anche di avere una figura organizzativa che ti consenta di gestire tutto nel migliore dei modi ora stiamo parlando di pratiche burocratiche non stiamo parlando di gestione e fare le pratiche cioè occuparsi delle pratiche burocratiche in Italia è un disastro perché ci sono mille rivoli e tu non puoi essere un tuttologo non puoi risolvere tutto dalla gestione dello spazio avere la licenza di pubblico spettacolo prima ne parlavamo significa che tu stai dichiarando al tuo comune che questo è lo spazio con questo palco di questa altezza di queste dimensioni lì c'è l'impianto elettrico qui c'è l'impianto audio se tu dovessi spostare questa casa da qui a lì oppure questo palco gli togli un modulo perché ti serve più corto dovresti rifare la pratica di pubblico spettacolo e comunicare all'ente che per un giorno fai una licenza temporanea di pubblico spettacolo in cui dici qual è lo spazio per come è stato rialestito ora immaginatevi noi che organizziamo circa 300 appuntamenti all'anno se dovessimo fare 300 pratiche ogni volta che cambiamo una cosa anche sulla graticcia qui non c'è immaginatevi dei tubolari dove vengono appesi i fari dove vengono appesi anche le casse tu dovresti ogni volta che vai a montare dovresti sapere che peso hai montato è chiaro che noi lo sappiamo il problema non è saperlo il problema è che lo dovresti comunicare ogni volta lente ma non lo puoi comunicare tu che lo metti come dire sulla bilancia sai che ci sono 10 fari da 100 kg e gli dici ci sono 1000 kg montati no lo dovresti far fare attraverso un ingegnere quindi se tu dovessi fare tutto alla fine non fai più niente quello che devi fare è cercare di gestire nel migliore dei modi la tua impresa nel mondo dello spettacolo nel modo più corretto possibile anche perché ti metti in regola oggi domani cambia la normativa e sei di nuovo come dire fuori legge 10 anni fa le pratiche di pubblico spettacolo erano passate dalle prefetture ai comuni i comuni però non avevano mai chiesto alle prefetture gli incartamenti quindi a Bari ad esempio il comune di Bari dove c'erano 10 teatri e ce ne erano altri 4 comunali chiusi perché era chiuso i Petruzzelli era chiuso i Margherita era chiuso il Cursal poi il Piccini l'hanno chiuso 3 anni fa non sappiamo quando riaprirà aveva 10 teatri e non sapeva se erano a norma oppure no allora lì non controlla lente sei tu che devi cercare di fare le cose nel migliore dei modi che significa investire dei soldi però considerate il fatto che i progetti a cui tu ti candidi sono progetti di spettacolo non è che tu ti candidi a progetti per allestire la sala cioè lui farà un progetto per fare una nuova produzione di teatro quindi tu devi cercare nelle tue economie di gestire in maniera tale che definisci dei budget anche per la sicurezza dei dipendenti e degli spettatori e vi posso assicurare che non è che lo fanno tutti infatti i teatri di Bari da essere 10 ora sono 6 o 7 che o erano a norma o si sono messi a norma ma neanche Petruzzelli quando ha aperto era a norma ed era stato ristrutturato ci sono voluti 20 anni per ristrutturarlo comunque lasciamo perdere questo argomento perché qui ci vuole un ingegnere nucleare per capire come deve funzionare in che senso com'è sicuramente sì perché l'anno scorso il comune di Bari appunto dopo 10 anni ha scoperto che ci sono dei teatri a Bari ha iniziato a chiedere gli incartamenti a tutti e a fare i controlli quindi sicuramente anche al team e il team è tuttora aperto no ma era come dire per sottolineare il fatto che Petruzzelli è che è di proprietà pubblica anzi questa cosa non è neanche chiara diciamo che Prodi l'ha fatto diventare di proprietà pubblica un domani sapremo se ha fatto bene o no perché ancora non è chiaro però l'hanno ristrutturato l'hanno ristrutturato gli enti pubblici quando ha riaperto il primo anno di attività ancora non era chiusa la pratica non era ancora chiusa ma lo può fare l'ente pubblico ma per dire il laboratorio urbano di Bari che è uno spazio come dire di questo tipo che noi gestiamo a Bari è il grande quanto il chisme sono quasi 3.000 metri quadri e che c'è una sala di pubblico spettacolo quando noi l'abbiamo avuto in gestione nel 2013 per i primi 6 mesi era ancora un cantiere il comune ce l'ha consegnato con gli operai dentro quindi noi in realtà non potevamo neanche essere dentro quel posto perché non eravamo degli operai autorizzati a stare nel cantiere cioè il problema è proprio questo che sono gli stessi enti che non rispettano le normative che poi sono loro a dare ai cittadini il teatro team sicuramente a norma altrimenti nell'iter di controlli che hanno fatto sarebbe stato chiuso come altri poi è un grande teatro sono più di 2.000 posti quindi ci sono delle domande per quanto riguarda questa sezione di oggi oltre a quelle che avete già fatto ok allora riprendiamo domani con Vincenzo salutiamo tutti quelli che sono in diretta streaming e alle 10 incominciamo con l'argomento del io adesso non ce l'ho qui un attimo solo allora domani riprenderemo con fare impresa culturale grazie e arrivederci a tutti ciao a tutti grazie grazie grazie